Buonasera, spesso qui a Pustella Rotante facciamo un uso privato del mezzo pubblico e salutiamo amici, parenti, partner e quant'altro, quindi permettetemi, permettetici stasera di salutare un amico di Rises, un amico di Credecon, un amico che abbiamo imparato a conoscere dal vivo per chi ne ha avuto la fortuna o per altri fortunati attraverso la sua arte, quindi ecco, ciao suono. Nicola Dionico, animi spaziale, scena di spaziale, fustella rotante. Che, te, 27 voi, care fustelle vicine e rotante, benvenute alla trentacinquesima puntata, tutte volte devo guardarlo, lo leggo tipo venti secondi prima, dieci secondi prima, tre secondi prima, no, non l'ho fatto piangere, l'ho fatto piangere, guarda, c'hai gli ulcichini. Eh, trentacinquesima perché non me lo ricordo, io dovrei intatuarmi ogni puntata il numero. Guarda, ti insegno, guardi davanti a te, sulla destra, c'è scritto. Sì, lo so che c'è, ma io lo guardo. No, ma io lì, proprio su, all'altro. Sì, sì, lo so, perché... Anche grosso, insomma. Tra l'altro sotto c'è scritto Speedy, powered by Speedy, ricordate Speedy.it, ma graffio ha fatto la sub, buonasera! Che detto così, salutiamo, innanzitutto salutiamo la sub. Che appena stava fatta la sub. Buonasera e benvenuti appunto alla trentacinquesima puntata di Fustella Rotante, la live. Eh, stasera una grande puntatona, un grande ospite, grandi giochi, grandi momenti di... Manche piccoli giochi. Grande tutto. Sì, grandi piccoli giochi, brava, vedi? Sembra quasi che... E come al solito, sempre qui, felicemente, ha arrampicato e ha vinto e avvoltolato come un pallone alla rete, il vostro Nick è qui, appunto, avvoltolato al microfono. L'unico uomo che agli europei sventola soltanto i cartellini gialli è ovviamente il solito Andy. Buonasera, Nick, buonasera a tutti. Pure Bipola. Ciao, grazie Bipola, grazie, grazie mille. Ma probabilmente c'è che la devo fare anche io, sta cosa. Tra l'altro, sai che... Ora, non so se è cambiato qualcosa negli ultimi due giorni, sono stato fuori e non ho controllato, ma sbaglio o Mario ci aveva promesso una sub che non è arrivata? Ma noi abbiamo già la migliore delle sub, non abbiamo bisogno di un'altra sub. Era così, Pepe. No, invece sì, ricordiamo, lo salutiamo, Mario. Quindi, Fox, se ci sei fatti vedere... No, noi salutiamo Mario fino a che non ci dà la sub che ci ha promesso, altrimenti, perché io a gente non de parola non la saluto, cioè non ci voglio avere niente a che fa. Grazie sub che mi permetti di sgranchirmi subito inizio puntata. Subito a tu. Anche perché sono abbastanza incriccato, ho avuto una settimana un po' pesante. Ma non capisco perché, Bipora dice, sei mesi di fila è un decorso di due mesi, non capisco... Perché è quando, se non lo rinnovi per un certo numero di giorni, da quando scade, ti perdi il... Ah, per sei mesi di fila... Sei mesi perché ha ripetuto sei mesi, però non l'ha fatti proprio taccato. Direi che poteva farla anche meno complicata, il signor Twitch, questa cosa, veramente. Il signor Twitch che è il signor Bezos. Ovvero il signor Amazon. Con lei che rappresenta tutte le nazionali del mondo del gioco a tavolo, soprattutto a livello europeo, è la nostra Shelly, perché non ho... La nostra stellare di Shelly, in collegamento da Roma. Eccola qua, buonasera, buonasera Shelly. Come stai? Buonasera ragazza. Bene, bene. Sono arrivata... Ho superato la metà di giugno, quindi sono una persona nuova, rinata, piena di prospettive. E quindi... Esatto, soprattutto piena di prospettive, ma le prospettive di Shelly le scopriremo a breve. Non ancora, ma le scopriremo a breve. Farei un saluto subito a Turing70 in chat, che dice a Shelly di prendere un puzzillo di colore viola. Quindi... Ti sto pensando. Ciao, ciao Turing. Buonasera, buonasera a Turing. E siamo appunto qui oggi, 14 giugno, lunedì 14 giugno, per raccontarvi delle cosine molto interessanti. Ma purtroppo, in attesa del puzzillo o viola, andremo a parlarvi di qualcosa di non interessante. Per esempio, ve lo spiega a Nick. Me lo spiego io. Eccoci, sono entrato subito nel vivo, sono entrato subito nel vivo perché... Eccolo là, eccola. Di che gioco è Shelly? Il virola è di Steampark. Steampark, ok. Che sono... Ce l'hai anche la prossima volta, c'è anche i puzzilli viola di giochi belli? E' un gioco bello, Steampark. Sì, grazie Turing. A modo suo, è bello dentro. È bello dentro, grazie. Ma non dentro la scapola, è bello... È bello così. È bello dentro, cioè nel senso dentro... Troppo dentro, il cartone tra un po' di vestiti e quell'altro. Tra i vari strati. Bravo Turing. Un'ottima occasione persa a Steampark. Che risparmi i punti per far cantare il nostro graffio e non per farmi dire quella brutta parola che verrà sottolineata con l'or, sappiate, d'ora in poi si sarà contento del nostro graffio e ringrazio Bipolar che dà la spiegazione al posto mio, grazie Bipolar. Comunque l'ha riscattato Sub, quindi... Sì, no, accidenta graffio e l'ha fatto, ma ringrazio la Sub per averlo fatto. Ricordiamo che il suono sarà questo. Ecco, perfetto. Bellissimo. E ora mettiamo anche un counter, eh? Ora quando torno dalle ferie... Ma becchiamo il counter invece per i giochi belli, perché stasera altrimenti sarebbe un più uno. Perché stasera vi andiamo a parlare... Si vede già dall'artwork. Si vede già dall'artwork. No, diciamo... Ecco. Ho detto diciamo. Lo so, lo so, e volevo farti soffrire prima del tragico suono. Allora, l'artwork stesso ci... Spoiler ha un po' in qualche modo quello che è il titolo stesso, quello che è il tema. Il cuore al centro di questo meraviglioso gioco, gioco di Russell Wustenberg, con l'artwork realizzato da George John. Già, c'è il nome di una salsiccia, questo. Pubblicato da Maple Forge, the Panda Game Manufacturing. L'unica cosa buona che hai è che stavo fatto in una fabbrica buona, a parte quello. Stavo fatto. Forse, perché ancora l'obiettivo non è stato raggiunto. Siamo a 7.500 su 10.199. E io una domanda me la farei. È fatto per dargli il colpo di grazia. Ho fatto per aiutarlo, per sostenerlo, perché mancano 17 giorni alla fine della campagna di questo gioco, che è un po', diciamo, che è un po', mettiamola così, la fusione tra Carcassonne e K2, sto parlando di Grab Your Goat, che c'è anche il gioco di parole, Grab Your Goat, grab your goat, ma insomma, va bene, non importa. È talmente brutto, non l'ha capito nessuno. Che cosa, gioco di parole, prende il capotto, dice, afferri il capotto quando scappi via, no? Invece qui afferra la capra, agguanta. Guarda, aspetta, c'è proprio... Vabbè, fa ridere, fa ridere. Fa ridere tantissimo. Vabbè, ho fatto ridere molto. Gioco per 2-4 giocatori, durata all'incirca mezz'ora, 45 minuti, in Grab Your Goat dobbiamo ciappare la nostra capra. Siamo uno dei quattro bellissimi, meravigliosi caprai, questo è, e la nostra capra è scappata, è scappata su Primonti. Ma i caprai stanno all'isola di Capraia? No, stanno a Montelumbo. Però da lì si vede la praia. La capra è scappata e il nostro compito è quello di andare a recuperare... Aspetta, scusate. Attenzione, attenzione, scusate. Buonasera Fox, stavamo dicendo, poc'anzi, che non abbiamo visto passare la sub che Mario ci ha promesso la settimana scorsa, due settimane. Il ricordo era quella di terzo livello. Era quella, sì, era quella che per compensare... Delle 6-700 euro che abbiamo perso. Quello che è andato via. Esatto. Perché ha detto, no, siete troppo filo Mario, andiamo via. Esatto, esatto. Dungeon Castle, gli si deve sapere, abbiamo anche quelli che manda, tipo Equitalia. No, anche perché l'automobile e la sub non va bene. Cioè, noi lo sai dall'elicottero in su, ovviamente. L'elicottero ce l'abbiamo e gli dobbiamo fare il pieno, quindi fai questa sub così almeno ci arriva un po' di soldi per il pieno. Non ci pensiamo più. Andiamo. Una griglia 7x7 che... No, no, la tua, in diretta, ha detto... No, no. Fox, mettigli la sub con Dungeon Cast. Confermo. L'ha detto, vatti a rivedere la registrazione. Puoi andare su YouTube, anzi, ancora meglio, vai su www.fusserlotante.it, ti vai a cercare la puntata e te lo vai a rivedere. Per sicurezza guardatela tutta la puntata, che male non te fa un ripassino. Esatto, è assolutamente d'accordo. Una griglia 7x7 che, come sa bene Salvini, fa 49. Una griglia di... Sbagliavo, volevo più già questo. Ci avevo il dito su qui. No, era ragione. Tra l'altro fai perfettamente bene a farlo. 49 tesserine dove, al centro, se scorri un po' più giù, potremo vedere l'infografica. Scegli, scendi, scendi, scendi. Qui abbiamo le casine dei nostri pastori caprai, caprai, le capre. Scendiamo, 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 scendiamo. In poche parole, formata questa griglia, ogni giocatore, appunto da due a quattro giocatori, ha in mano all'inizio tre tesserine, che potranno essere scambiate con quelle già presenti capovolte, chiaramente, nella griglia. Andando a girare, eccola qua, finalmente la griglia è trovata. Partiremo dalla nostra casettina e da lì dovremo cercare di recuperare la nostra capra specifica, che è scappata in mezzo ai monti che vengono rappresentati. Sembrano tanti dei piccoli monti fugi. Esatto, visti dall'alto più o meno. E quella al centro è la cima della punta della vetta con la rosa dei venti, che rappresenta appunto la cima della montagna. Nel nostro turno cosa potremo fare? Ovviamente giocare una tesserina che abbiamo in mano, ruotare quella su cui siamo. Può metterlo a posto e giocare a un gioco bello. Può metterlo a posto e giocare a un gioco bello. E spostare quindi il nostro capraio all'inseguimento della capra. Le capre si muoveranno seguendo le indicazioni di un dado direzionale che le farà spostare. Quando loro si sposteranno, a seconda di quella che è la casella su cui finiranno, ci saranno degli effetti che potranno essere attivati. Alcune caselle effetto avranno effetto chiaramente solo... Ma qual è la cosa più bella di questo video? Di questa GIF? Il tavolo. Il tavolo, sì. Dici, è un bel tavolo, sì. Alcune tesserine avranno effetto solo sui caprai, altre soltanto sulle capre, altre su tutti e due. chiaramente l'elemento, diciamo così... E' stato abbastanza bravo fino a ora. L'elemento che... Sei solo a tre. Appunto. L'elemento principale è quello di andare a disturbare gli altri caprai giocando le nostre carte della mano in modo tale che la loro strada venga, mettiamola così, disturbata. Ma dici che è un bel gioco? Potrei sbilanciarmi e dire che è un gioco divertente. Mettiamola così, come direbbe il nostro amico Ruge. Ci sono tutta una serie di carte molto interessanti, degli effetti, dal cespuglio di caffè, che fa fare un'azione in più o alla capra o al capraio che ci finisce sopra, la nebbia densa, che praticamente, a parte le caselle su cui sono i caprai, tutte le altre vengono riscozzate e quindi si riparte perché ci siamo persi nella nebbia. Certo, ce le potevamo mettere due miniature di due pecore. E' per questo che non hanno fatto... No, ci dovevano mettere gli agnellini di pasta de mandorle, ragazzi. E' basi. Poteva essere veramente un'idea. Se poi finiamo, durante il nostro percorso, su una casella dove c'è un'altra... Allora, se una capra finisce in una casella dove c'è un'altra capra, non succede niente. Pelo meno niente, diciamo... Come no? Non diventano tre capre? Nella meccanica del gioco. Se invece finisce in una casella dove c'è un capraio che non è il suo capraio, gli darà una testata e lo manderà via. Se un capraio, invece, finisce in una casella dove c'è la sua capra, il gioco finisce ovviamente perché ha vinto. Se finisce dove c'è un'altra capra, la manda via in un'altra casella adiacente o un altro fattore lo stesso, un altro capraio lo manda via anche questo sulla casella adiacente a scelta però di quello che viene allontanato. Il gioco termina, come appunto dicevamo, nel momento dove dicevamo... Sì, ma prima mi segnalano dalla chat e l'hai detto perché... Sì, l'ho detto. Stavo seguendo le cagate che dice Fox che sostiene che non ci sia il codice fiscale sul sito, invece c'è, tipo in tutte le pagine, dato che è nel footer, quindi la differenza è che... Sì, un fal figo che gliel'ho scritto io, tra l'altro. Sì, infatti. E comunque c'è anche... A domanda rispondiamoci anche la partita IVA perché... Esatto, c'è la partita IVA. Per chiarezza proprio. Il... Io sono sul sito e sì, c'è nel footer, in fondo, in basso, in quella riga nera. Sarebbe sorprendente come cosa, ma credo stia facendo solo per farmi confondere. Il gioco termina, al momento stesso. Sul sito Rises, ma no, ma se vai sul sito di Fustella Rotante, invece sì. A parte mi sembra che stavano anche sul sito Rises, ma non importa. Però comunque... Se va il leperito magico con le capre e l'otto per miglio dalla chiesa, lo è. Esatto, lo è. Concludo dicendo che il gioco si conclude, appunto, nel momento stesso in cui un capraio entra nella stessa casella in cui c'è la sua capra e riesce quindi a prenderla e portarsela a casa. Il... Come dicevamo, mancano ancora 17 giorni alla fine della campagna. Grab Your Goat ha, a mio avviso, tutte le potenzialità per diventare un must, delle librerie di ciascuno di noi. Il costo... Il costo... Il costo... Il livello del pledge principale è 17 euro. Quindi, diciamo... 25 dollari canadesi. 45 dollari canadesi, invece, per avere due copie. E invece... Per quelli particolarmente masochisti. Sì, esatto, esatto. E non c'è più, non è più disponibile invece di Liberde, purtroppo mi viene da dire. Quindi... Questo è un rammarico grosso. Un rammarico grosso. Non posso così suggerirvi e dirvi che molto probabilmente non farò il pledge per Grab Your Goat. Ma chi sa perché... Però potete andare a vedervi la campagna... Ora è... La campagna a link fustellorororante.it slash nickstarter e potete godervi la meravigliosa arte di John Chan, l'astuzia nel design di Russell Wustenberg, tutte racchiuse all'interno di Grab Your Goat. Sigla! Me lo spiego io. Ssssshhh! Sssshhh! 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 Sto... Sto imparando, Sab. Piano 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 sono arrivata a 4 diciamo stasera. Sssshhh! 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 Andy! Andy perdonami, io i giorni addietro ti ho chiesto di cercare una musichina. Una musichina? Sssshhh! Sssshhh! Ce l'ho! Ce l'hai? Ce l'ho! Amando? Vai! Aspetta, io non vi dico perché, cioè non vi dico quanto, quanto. Ma questo giorno, qualche anno fa, è nato un amico di Fustella Rotante che ci faceva piacere fargli gli auguri in... fare mezzo privato, uso privato del mezzo privatissimo. Vai! Luca! A te! A te! A te! A te! Non lo so! Sono le capri di... Luca Borsa! Ma come è un gioco brutto sulle capri? Io la sento un po' male. Niente, è Luca Borsa, ragazzi, è... Francesco Cucini! Sì, è il comprare Francesco Cucini che... Ci salutiamo perché ci segue sempre, ma... Quetaneo di Nick, tra l'altro. Tra l'altro. No. No, lui è molto più giovane di me, quanto meno nello spirito. e... Andiamo a chiamarlo subito, quindi. No, aspettiamo un secondino, ricordiamo... No, Luca Borsa! Sì, scusate, sì, Luca Borsa, certo. Il comprare Luca Borsa. Sono tutto drogato. Appliate che fa cifra tonda. Quanti so? Non dico altro. Quanti so? Ragazzi, fa cifra tonda. Capite a me? 20, 30, 40, 50. 20, dai, sulla fiducia. Che gamba! Eh, 40, come me. Qua... Vabbè... Eh... Ti riporto. Ciao Luca, ti vogliamo bene! Salutiamo chiaramente Luca Borsa, che... Se smetti di dare pugni sul banco, ti... Così? Sì. Devo smettere. Vengo così a tutti. Senti, senti. Come rimbomba. E... Appunto, se poi volete chiaramente seguire non soltanto il Nick Starter durante la live, perché non so per quale motivo lo fate, ma volete anche andarvi a leggere quelli che sono degli articoletti che escono una volta a settimana sul nostro sito, potete farlo andando appunto su FustellaRotante.it, il nostro sito, dove troverete tutti i contatti anche a quelli che sono i nostri social. Se poi fate punto esclamativo... W... Comandi... No, vabbè, in generale avrete tutta la serie di comandi a disposizione, tra cui quelli che vi catapulteranno direttamente nel magico mondo di FustellaRotante e in tutti i suoi social, a partire dalla pagina Facebook, il profilo Instagram, il nostro canale YouTube, ovviamente questo canale Twitch e anche il gruppo Telegram, che è costantemente aggiornato con tutte le straordinarie novità del mondo del gioco da tavolo. Fa caldo. E invece lunedì che succede? Invece lunedì prossimo è il 21 giugno. Il 21 giugno inizia l'estate. Esatto. E poi? E poi basta. Io non capri fuoco! E poi? E poi? Vado a giocare tutta la notte! E poi? Che c'è? Andy Van Ferry! E infatti lunedì prossimo non ci sarà il nostro Andy. Forse la puntata andrà in onda, non lo so, perché molto si appoggerà su di me, quindi è molto probabile che non succederà. Ci potrebbero essere, diciamo, dei problemi tecnici così imprevisti. No, sì. Assolutamente, secondo me non succederà niente. Però ve ne farete una ragione. Considerando che sarà dal 29 gennaio 2019 la seconda puntata che salterò. La prima nasceva mia figlia quel giorno, però. Mi sembra del tutto plausibile. Quindi mi batti. Però non hai partorito te, eh. Cioè, nel senso. Eh? Non hai partorito te. No, è vero. Non ho partorito io. Beh, ho capito. Non è stata altrettanto dura, ti assicuro. Va bene, va bene. Direi che penso sia sopportabile. Però mi collegai, però mi collegai telefonicamente. Hai fatto una telefonata. No, era per dire che nonostante non essere partorito lui, comunque gli abbiamo dato il giorno di ferie. Perché noi siamo... No, è che se partorisci te, partorisci con dolore. Invece a me il dolore è arrivato dopo tutto insieme, poi prolungato nel tempo. Quindi la differenza. Eh... Sì. Esatto. Solo quella come differenza. Inoltre, come dicevamo prima, sotto il 35 vedete Powered by Speedy. Speedy.it Non l'ho detto prima. Eh, vabbè, ma non l'ho detto soltanto Speedy e non l'ho detto la vera banda larga. Andate sul sito appunto Speedy.it che è lo sponsor tecnico di Fustella Rotante che fornisce la connessione allo studio 1 di Fustella Rotante. 1, ricordate, perché poi ce ne sarà anche il 2, il 3, il 4 e anche probabilmente il 6. E il settordici. Il settordici. Esatto. Eh... Grazie a... Grazie alle vostre sub, però. Soprattutto. Esatto. Se... Se volete saperne di più su Speedy, andate appunto su Speedy.it e potete trovare tutte le offerte, tutte le proposte, sia per la connessione da casa che per la connessione dall'ufficio. È finito? Banda larga. Assolutamente sì. Era per dire, per arrivare al punto principale, ovvero quello in cui andiamo a chiamare il nostro ospite di stasera. E ora si alza e se ne va, per esempio. Dici? Sì, sì. Perché? No, l'ho visto che è dietro le quinte. Ah. E ora andiamo a chiamare e si è alzata. Ah, lui a chiamare? Andava a chiamare, probabilmente... No, vabbè. Perché hai una gag dove ti colleghi e non c'è. Non c'è. Chi non c'è? Non gliela suggerite sta roba, per favore. Perché poi lo fa. Lo fa il nostro Luca Bonora. Eccolo qua. Eccolo qua. Buonasera, Luca. Buonasera. Ci senti? Buonasera. Ciao, buonasera. Sì, sì, mi sento benissimo. Vi sentivo anche prima. Ho visto che è la puntata dei Luca Anziani, quindi mi fa tanto piacere essere quanto io. Ma ti abbiamo chiamato apposta. Che salutiamo? Manca l'altro Luca, socio suo, che avremmo fatto un trittico e io mi sarei fatto volentieri da parte. Ecco, ma siamo qui. comparsa una scritta. Che dice? Si sente basso, ora ve lo alzo. Datemi un attimo. No, comparsa scritta davanti a Luca. Ah no, sono io. Sono io che alzavo il volume. Eccoci. Ci siamo, perfetto. Va bene, va bene tutto. Va bene. Alzate l'audio dell'Hospitez, dice Gaffo. Ditemi, datemi un feedback Luca, parla pure, facciamo un po' lì. Luca, allora... Se volete altri... Del coso. Adesso sembrerebbe che vada abbastanza bene. Ci senti? Aspetta che lo alzo un po'. Sì, sì, io mi sento perfettamente, vi sentivo perfetto. Aspetta che lo alzo ancora un po'. Eccolo qua. Datici feedback della carta se va bene. Luca ha comunque questa impostazione un po' robotica. Un po'. Ma che po' robotica? Io sono molto sotto tono. Cioè, toni pacati, toni bassi, poche parole. Quindi può essere anche quello il problema. Cioè, non è sicuramente... Soprattutto poche parole. Colpa vostra. Ah, ok. Soprattutto quello. Pensi che Grab Your Goat, non so se ne ha sentito il gioco di cui vi stavo parlando, quando possa rientrare nel prossimo premio Efesto? È un Kickstarter? Sì. E allora io i Kickstarter li brucerei tutti. Soprattutto quelli belli come in questo caso. Soprattutto che li porto io, esatto. Soprattutto quelli belli, quando mai ne troverò uno, ma per il momento anche no. Però... Comunque sì, effettivamente. Allora, non lo so. Ho seguito poco. Ho seguito l'ultima parte del tuo discorso. Ma per darti una risposta seria... Non ti sei perso niente. Potremmo prenderlo... Potremmo prenderlo in considerazione per l'Efesto del 2028, quando arriverà ai Bakers o per il 2029, quando arriveranno ai negozi. Ci può fare. Giusto. Giusto. Luca, ti lasciamo nelle sapienti mani della nostra Shelley per l'intervista. Noi saremo qui a darti fastidio. Seguiremo quello che dirà la nostra chat. Anzi, a proposito, stimoliamo la nostra chat per fare le domande al nostro Luca. E niente, buon divertimento. Quando ti vuoi annoia puoi andare via, Luca. Puoi anche spingere direttamente... Sì, sì. Anche io. Anche va bene. Perfetto. Vai, scegli. Tanto sono cose che so, quindi effettivamente è un po' mannoia. Buonasera signorina, mi dici. Ciao Luca e benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito. Luca Bonora, insomma, non ha bisogno di presentazioni anche perché è stato giudice del gioco dell'anno, giurato del gioco dell'anno, è tuttora giurato del gioco di ruolo dell'anno. Non gli abbastavano tutti questi premi, se ne ha inventato uno che è il premio Festo e ha chiamato come giurati, insomma, delle personalità. Secondo me anche hai fatto una scelta coraggiosa probabilmente da un certo punto di vista, quindi poi magari ti chiederò anche perché hai scelto loro e sei soprattutto giornalista, quindi hai il tesserino. Sì, tra le altre cose, incidentalmente, da qualche parte, non so quale giacca e non uso da mesi perché non si esce quasi mai di casa, ho anche un tesserino da giornalista. Ma è un incidente di percorso, cioè... Più di feltri, dall'altro, perché a feltri... Come dice Stani, se smetto quando voglio, è un incidente di gioventù di cui mi pento assolutamente. Ho già fatto richiesta perché mi venisse cancellato. Giusto. Tra l'altro sei un giocatore, praticamente giochi a qualsiasi cosa, giochi a tavolo, giochi di ruolo, LARP, giochi davvero di tutto. Sei poliedrico e onnivoro, sostanzialmente. Sono abbastanza onnivoro. Sì, sui giochi a tavolo sono abbastanza... No, ma lì, vabbè, una mia presa di posizione è anche un po' tusa, mi ne rendo conto. Però non ho la pazienza di aspettarli, non ho l'entusiasmo di farmi prendere dalla descrizione di un quinto del regolamento, pensare che poi il gioco sarà buono. E fortunatamente non ho fetici infantili o adolescenziali, per cui se esce quello lo devo assolutamente comprare. Vedi, per esempio, il gioco ispirato ai master che deve uscire adesso e mi hanno già sprangiato i coglioni con la serie Netflix e con le polemiche finte sulla prima puntata che nessuno ha visto, ma hanno già deciso tutti che è fatta male perché è politica a ricorre. Ma sicuramente anche su queste robe, no. Ma soprattutto su queste robe. Esatto, soprattutto. Ma sì, no, perché già le vedi fare sulle robe serie e fai fatica a chiamarti fuori, almeno sulle cose che dovrebbero essere svago. Sì, comunque, io sono un giocatore abbastanza onnivoro, gioco un po' di tutto, ho predilezione per i German, e non è un caso che oggi ho fatto il Pfizer, infatti, e non ho nato la Cina. Ma, però devo dire che ultimamente sto un po' cambiando, proprio perché dopo tanto che giochi a un genere, probabilmente ti viene voglia di provare qualcosa di nuovo in maniera un po' più approcondita. Quindi mi sto magari avvicinando a delle cose un po' più American o di altro genere. Però mi piacciono moltissimo anche gli investigativi alla Detective o alla Chronicle of Crime e l'Escape Room da tavolo, che ne ho provate una buona percentuale. Non voglio dire tutte perché non sarebbe vero, ma parecchie di ogni tipologia le ho provate, quindi sì. Continuo a essere fortunatamente un giocatore onnivoro. Poi ho smesso con risico e quindi direi che tutto sommato va bene. Anche la salute... È presso una buona strada. Beh, sì, io ho smesso due mesi prima che smettesse il mondo perché hanno bloccato tutto, quindi tutto sommato non c'è una grossa differenza. Senti, come nasce il Premio Efesto? Tra l'altro, per giochi da tavolo ce ne sono davvero tanti e di ogni foggia a vari livelli. Come nasce il Premio Efesto e cosa ha di diverso dagli altri? Il Premio Efesto nasce dalla volontà di Etna Comics, che è la fiera che viene fatta ogni anno. Facciamo finta che non ci sia la pandemia, se no bisogna specificare ogni volta, quest'anno no, l'anno scorso no, però ogni anno, in questo periodo, perché la prima settimana di giugno, in corrispondenza con la Festa della Repubblica, quel weekend lì, a Catania si tiene Etna Comics, che è la più importante fiera ludica e fumettistica della Sicilia, una delle più importanti del Sud Italia. Sono 3-4 giorni in cui ci sono circa 85 mila visitatori. La maggior parte dalla Sicilia e dal Nord Italia, perché è più facile arrivare a Catania e da Milano con l'aereo che non da Napoli. Però, comunque, tendenzialmente c'è un pubblico abbastanza variegato. È una bella manifestazione, molto colorata, molto ricca di idee, un po' sulla falsariga di Luca Comics, nel senso che c'è tutto. Ci sono i cosplay, i fumetti, i giochi da tavolo. Ovviamente è tutto più piccolo rispetto a Luca, che è un po' la mamma di tutti quanti. E la manifestazione mi aveva chiesto, aveva intenzione di creare un premio dedicato ai giochi da tavolo, perché ci tenevano particolarmente, perché volevano un premio loro, perché volevano un premio che promuovesse il gioco da tavolo in Sicilia, tra i giocatori della fiera. E mi hanno chiesto anche un consiglio su che cosa si potesse fare, cioè che tipo di premio si potesse fare, per evitare ovviamente di fare una cosa che c'è già e non ha alcun senso. Che è oggettivamente difficile, perché i premi per esperti ce ne sono un botto, e sono tutti anche validi, sia quello italiano, i Goblin, che quelli internazionali. I premi per chi gioca poco, dallo spile al gioco dell'anno italiano, anche. Quindi effettivamente qualcosa di nuovo che non sia un doppione inutile, era difficile trovarlo. E allora proprio da questo mi è venuta l'idea. Basta quei doppioni inutili. Siccome ogni anno escono migliaia di giochi, centinaia e centinaia di giochi, parlo solo dell'Italia, e spesso si somigliano tantissimo, sono la copia della copia della copia della copia, ma ogni riferimento a Rosenberg è puramente casuale, io mi sono un po' rotto le palle di questa cosa qua, nel senso che se un gioco mi piace molto, ci gioco tantissimo. Kylos è uno dei miei giochi preferiti e ci gioco spesso. Non sento il bisogno di un gioco che gli somiglia tantissimo fatto oggi, con un'altra ambientazione, però questo è gusto mio personale. Se uscisse un gioco così, non penso che lo comprerei. Però probabilmente qualcuno sì. Ma negli ultimi anni abbiamo visto che c'è un replicare meccaniche, grafiche, ambientazioni, che funzionano in maniera anche ossessuale. Ciascuno ha detto Kylos 1303? Mi sono tenuto lontano perché non mi volevo... Mi è bastato quello che ho letto, ammetto che non ci ho proprio messo le mani, ma ho sentito si parli poco entusiasti. No, infatti, infatti. E allora ho detto, vabbè, ma cerchiamo qualcosa che non c'è. Occupiamoci dell'originalità. Troviamo un tema che al momento non è trattato, perché al momento si parla del pubblico, no? Cioè il pubblico di appassionati, di esperti, di giocatori casuali, ma non si va sulle meccaniche. In realtà neanche l'originalità è la tale meccaniche, perché possono essere estremamente complesse e estremamente semplici. Però è nato un po' da questo. Cioè che cosa... vogliamo qualcosa di nuovo? Cerchiamo qualcosa di nuovo. Cioè la novità, l'organizzazione e l'originalità da tavolo, che poi è venuto spontaneo collegarlo a questo, perché la divinità greca che forgia nelle viscere dell'Etna le armi degli dei, ma anche oggetti magici, calzari di armete e tante altre cose, che chi come me ha avuto cinque anni a fare il classico, le saggiate, non gliele ripeto. E allora era fatta, nel senso che avevamo anche l'ambientazione del premio, perché fosse stato un... Efesto fosse stato dentro il Vesuvio, probabilmente avremmo fatto una cosa diversa. E quindi ci è venuto spontaneo anche il nome del premio. E da qui il resto, come dire, è venuto abbastanza facile. Cioè la scelta dei giurati, la scelta dei giochi e così. La scelta dei giurati che sono? La scelta dei giurati... Allora, i giurati siamo in cinque. Quattro sono fissi e uno ruota ogni anno. Nelle intenzioni originali era un partecipante alla fiera che, tra quelli che si candidavano, ovviamente veniva estratto. Con due anni senza fiera abbiamo dovuto ricorrere a sistemi un po' diversi. Però il primo anno l'abbiamo fatto in tempo. Quest'anno abbiamo chiesto di mandarci dei video. Cioè era la cosa più vicina al candidate di voi. Abbiamo scelto Eric, che è di... E volevamo solo gente siciliana, proprio perché il concetto era di divulghiamo il gioco in Sicilia. E quindi se sei un partecipante della fiera saremmo più contenti che il quinto giurato fosse un siciliano. Anche per non fare quelli che vanno a decidere in casa ad altri. Cioè io sono milanese. Un giurato è torinese, quell'altro è veneto. E quindi... E il quarto è Salvatore Mellia, che è nello staff di Etna Comics. E lui è catanese. I due giurati principi, cioè i miei due ladroni, che mi sono scelto personalmente, di cui sono molto orgoglioso, perché sono due persone che stimo molto, sono Dado Critico, Andrea Dado. Andrea! E... Che saluto perché sicuramente... Adesso mi mando controllo se mi sta seguendo. Che saluto affettosamente. E l'altro è Andrea Bianchin, cioè Sgananzium. Sgana. Sgana. Banalmente li ho scelti perché... Perché avevano lo stesso nome, così dovevi ricordarti uno solo. Sì, e così ogni volta che scrivo in chat Andrea scusa, uno mi chiede sempre a chi ti sta rivolgendo, ed è un casino. No, li ho scelti perché... Perché secondo me sono i due più bravi a fare quello che fanno. Cioè uno nei video, e non a caso è un professionista, e l'altro nel blog, anche se il blog di Dado è assolutamente sui generis, e lo conosciamo, ma è il suo essere sui generis che mi piace moltissimo, mi è sempre piaciuto moltissimo. Io sono una sua gruppi e lui lo sa. E poi mi piaceva farlo. Tu prima hai detto coraggiosa. In realtà mi hanno già superato, nel senso che ho notato che in questi due anni molti editori hanno molto spinto l'acceleratore sul mondo degli influencer, andando anche molto a di fuori della nostra cerchia. Cioè io ho cercato due persone che secondo me erano effettivamente molto conosciute e apprezzate, ma sono nella nicchia. non è che sono conosciuti fuori né un Andrea né l'altro. Mentre ho visto che ultimamente gli editori più grossi soprattutto cominciano a rivolgersi a influencer e blogger di un certo peso. Penso a Luca Raina, penso alla Cammy Hawk, che si occupa e sono effettivamente appassionati di giochi, ma hanno un pubblico 50.000 volte più ampio. Quindi forse ho anticipato quella che è una tendenza. Ne sentivo oggettivamente il bisogno. Secondo me o fai il giurato col cappuccio sulla testa e nessuno ti conosce e non è una cosa che appartiene al mio stile, oppure devi essere testimonial del premio e quindi devi essere uno che ha una sua posizione, una sua visibilità, ne parli come parli di tante altre cose. Perché poi, voglio dire, i due Andrea avete visto, non è che da quando sono in giuria parlano di quello. Ne parlano quando non hanno tempo o voglia e quando parlano di quei giochi lì. Questo è assoluta libertà. Non è che li ho cooptati per fare solo quello. Viva Dio, cioè sarebbe tragico. Quindi non li ho detti tutti e quattro, sì. Salvatore, Erik, che c'è solo quest'anno, vediamo l'anno prossimo come faremo, anche perché la fiera la settimana scorsa non c'è stata e si parla del 2022 come un po' per tutto. Forse speriamo ancora un po' in una Luca Comics in sordina, ma le altre sono molto incognite. Beh, in realtà Modena Nerd, nonostante non abbia una zona giochi particolarmente pomposa, ha già detto che viene fatta ai primi di luglio. Stiamo in attesa di ulteriori informazioni su Play, che comunque si stanno organizzando, a loro dire, quindi stiamo aspettando comunicazione ufficiale, però io personalmente c'ho il tavolozano pronto, perché non vedo l'ora. Sì, no, per Play, anche io, anche se dopo l'anno di difficoltà dello scorso anno, cioè io gli faccio i miei migliori auguri, ma il problema è che gli espositori in una fiera, e Play è una fiera in senso stretto, cioè il padiglione, gli stand, chi vende, chi dimostra, ma un espositore deve capire che misure di sicurezza e sanitarie deve affrontare, quindi che costi ha, presumibilmente maggiori, che affluenza di pubblico ha, quasi certamente minore, ed eventualmente penso io che sconto ha da parte della fiera. Se la fiera mi dice che mi fa uno sconto significativo rispetto alle edizioni passate, sicuramente se ne parla. Mi metto nei panni dell'editore medio, se mi dici che i costi sono gli stessi, di sempre non lo so quanto un editore se la senta di sostenerla. Io sono anni che sento gli editori dire che le fiere sono un male necessario, ci si va perché non si può non andare, soprattutto le più grandi, ma poi costa, si spende, si guadagna poco, perché la gente vuole i giochi in sconto e non capisce che sei lì a spendere tu soldi per essere lì. Quindi c'è nessun editore, e correggetemi se sbaglio, viene via da una fiera dicendo ho fatto una paccata di soldi. Mediamente ti dicono ho chiuso in pareggio, ho fatto qualcosina, mi sono fatto l'albergo e cose del genere. Sì, di solito è questo quello che si sente, perlomeno. Poi o mentono, o mentono, oppure è così. Magari giocano un po' a ribatto, però... Però per come è girato fino al pre-Covid, era il modo di fare marketing, fare rete, e quindi insomma si investiva perché era il punto dove investire. Sì, fare outlet anche, vuotare i magazzini. Quello soprattutto. Va bene, ma veniamo ai candidati di quest'anno, così vediamo anche cosa ne pensa la nostra chat. C'è qualche titolo croccante, c'è qualche titolo croccantino. Croccantino, croccante, buffino e curiosino. Io invito, buffino e curiosino, io comunque invito la chat, perché siamo stati investiti. Io non vedo perché è troppo piccola. È una chatita. Però visto che ti abbiamo invitato e possiamo parlarne, possiamo influenzare quella che sarà l'opinione di uno dei cinque giurati. Sì, quale vorresti influenzare? No, diceva la chat, di dare delle opinioni. Ah, sì, sì, sì. No, no, è molto probabile. Probabilone. Vabbè, diciamo che hanno più possibilità loro del gruppo dei giochi da tavolo e di società. Partiamo avvantaggiati. Buonissimo. Graffio va a lavarsi i denti. Non sappiamo perché, però... Ci tiene a farcelo sapere. Grazie. Devo fare... Devo fare... Chi è che va a lavarsi i denti? Graffio, graffio. È il nostro streamer serio. Beh, bravo. Beh, ma ha ragione. Cioè, comunque io l'ho fatto prima, ma è una cosa molto importante. Premessa sui giochi. I giochi del premio e festo vengono scelti esclusivamente dai giurati. Cioè, uno o più di noi propone un titolo, ci si sente rapidamente per capire chi l'ha provato, chi ne ha un'idea, chi lo conosce. Se non c'è un... Dicendo, no, ma sei matto, assolutamente non ha senso, non è originale, non è innovativo per nulla, sei impazzito e non hai chiesto nulla, finora non è successo, per fortuna, in due edizioni. Se ci convince, contattiamo l'editore e gli chiediamo se vuole partecipare. Ovviamente l'ultima parola ce l'ha lui, perché l'editore si può dire no, guarda me, mi importa sega. Come peraltro fanno alcuni editori, perché comunque, essendo un premio piccolo, alla seconda edizione non ha un impatto sulle vendite sicuramente significativo, quindi ci sono degli editori che ci hanno detto no, grazie, ci sono degli editori che ci hanno detto no senza il grazie, altri ci hanno detto no grazie, ma mi sembra una scelta legittima, perché tu in fondo fai promozione ai tuoi prodotti come vuoi e quei sistemi che vuoi. Probabilmente il fatto che ci siano stati negli anni una valanga di blogger, youtuber con dei numeri assolutamente risibili, 15 visualizzazioni a recensione che chiedevano a tutti gli editori giochi, ha fatto un po' stufare la maggior parte degli editori che hanno cominciato a dire aspetta, cioè prima di mandare le copie in giro adesso vogliamo avere una ragione valida, non il fatto che magari sei simpatico, perché quando cominci a distribuire per promozione 30, 40, 50 copie le tirature le conoscete, cioè rischi di arrivare al 5 o al 10% della tiratura non ha senso, nel GDR peggio ancora perché i numeri sono più bassi. Comunque noi abbiamo fatto questa scelta perché io ho cercato di fare tesoro della mia esperienza al gioco dell'anno, al gioco dell'anno decidono assolutamente gli editori, hanno la prima e l'ultima parola, è una cosa che io non condivido, capisco nella sua logica, ma non condivido perché a volte ti metti in posizioni complicate, cioè faccio un esempio per tutti, noi al gioco dell'anno abbiamo avuto Sword and Sorcery qualche anno fa, al di là del fatto che comunque lo valuti e ti ci dedichi tanto tempo perché è un gioco anche lungo, ma che senso ha di dare un gioco del genere a un concorso per neofiti. Né nessuno, però l'editore dopo averglielo detto, ha detto no, io ci tengo particolarmente, voglio dire, voglio che il gioco sia candidato e quindi si prese. Io peraltro mi divertì anche parecchio perché amo Dungeon Crawler. Volevo evitare di avere cose che non c'entravano a nulla e ho detto anche dei no, abbiamo detto anche dei no, cioè alcuni editori mi hanno detto ti interessa questo titolo? No. Cioè è un buon titolo, cose interessanti, però il requisito base è originalità e innovazione. È un concetto elastico, è un concetto molto soggettivo, però io spero che sarete d'accordo che i giochi che abbiamo scelto c'è. Poi magari ve ne verranno in mente altre tanti che c'è anche lì, questo ci sta. Sì, devo dire, a leggere la lista dei candidati non manca, ecco, questo concetto. Sì, non manca, diciamo che non manca. Allora, intanto salutiamo Andrea che è arrivato e... Su sollecito. Esatto, di sua spontanea volontà. Di sua spontanea volontà è arrivato. Ora li diciamo, sabbi, i candidati, ora arriviamo, ora arriviamo. No, aspetta, eh. Che c'è? No, non glielo chiederò. Penso che abbiamo la stessa lista perché ve l'ho mandata io. Io ovviamente me la devo rileggere per avere anche gli autori. No, no, dai, la leggo io perché ho i potenti mezzi della tecnica. Qui, allora, il premio passivo ha due categorie, quindi ha la categoria basic e la categoria filler. Per dirlo a chi non lo sa. Cominciamo dalla categoria basic. Il primo della lista che mi hai mandato che penso sia scritta solamente in ordine di come vi sono venuti in mente è... Sì, è l'ordine in cui abbiamo scritto. Esatto. Micro Macro pubblicato in Italia da MS Edizioni che è quel gioco di cui sicuramente abbiamo già parlato che praticamente ha questo tabellone molto grande dove... con tanti disegni dove attraverso delle informazioni su delle carte bisogna trovare il luogo descritto dalle informazioni sulle carte. Quindi è una specie di enigma. Sì, se vuoi lo spiego in modo che si... Ecco, infatti, grazie Luca. Allora, a parte che non ti ho scritto il nome per esteso perché poi per abitudine noi abreviamo sempre ma è Micro Macro Time City ma questo è assolutamente errore mio. No, secondo me è un titolo molto interessante e geniale per certi versi non solo per l'idea di mettere dei casi gialli dall'inizio alla fine quindi dall'omicidio il morte quello che fa l'assassino quello che ha fatto la vittima perché è accaduto e tutto quanto in un mazzettino di carte 4-5 carte e in una mappa di 2x2 dove possiamo affrontare 16 casi diversi di difficoltà crescente ma la cosa che ci ha affascinato è che non è solo un cercare il pelo nell'uovo l'indizio particolarmente piccolo con la lente come si può fare sulla settimana enigmistica nel quesito con la Susio nel corvo parlante ma la genialità di avere la storia che si sposta avanti e indietro nel tempo per cui noi seguiamo i protagonisti spesso la vittima e l'assassino che si spostano sul tabellone nel senso che sono disegnate a breve distanza e ti danno l'idea di seguirli letteralmente avanti nel tempo e indietro nel tempo perché tu a volte inizi a seguire un caso da un cadavere di fianco a un palazzo e se ti guardi intorno troverai a pochi centimetri di distanza perché la mappa comunque ha un dettaglio molto elevato la persona prima che morisse quello che ha fatto prima con chi ha parlato dove è stato e probabilmente seguire tutte le sue tracce sulla mappa ti permette anche di capire chi l'ha ucciso perché il movente e così via e quindi di fatto creando delle vere trame gialle completamente scollegate una dall'altra per cui sono storie molto brevi le puoi risolvere in 5 minuti 10 20 25 ma è difficile che si possa superare la mezz'ora dipende poi da quanta gente c'è attorno al tavolo perché comunque i dettagli sono piccoli il gioco prevede da 1 a 4 giocatori se ricordo bene secondo me il numero ottimale è 2 ce ne so che in 2 vedi tutto in 3 4 ma anche in 5 e 6 ci puoi benissimo giocare però ti devi alternare per vedere sulla mappa oppure la appendi al muro modello CSI che secondo me è molto figo come cosa oppure fai una cosa folle come abbiamo fatto noi qua a casa e la colori noi abbiamo quasi finito di colorarla è presente la mappa io ho partecipato pochissimo ma ci sono persone con cui io convivo con cui condivido la mia vita la mia casa che hanno deciso di fare questa cosa folle ma è venuta molto bella devo dire la verità adesso non so farvelo vedere se tutti i dettagli sono stati fatti con cura deve venire fuori veramente un'immagine un lavoro un lavoro pazzesco anzi mi è stato detto e lo faccio vogliamo esortare l'editore a fare un mandala ispirato a Micro Micro Crime City un libricino da colorare a pagina con i casi veri o altri casi non importa però questa cosa fatela perché ci piace una copia l'avete venduta non so le altre ma una l'avete venduta due so ma diremo un estratto di questa live Enrico di MS Edizioni vediamo che ne esce magari parlano con l'editore originale tra l'altro come diceva Sab in chat ne abbiamo parlato ne ho parlato nella live numero 6 del 16 novembre e io l'ho adorato io l'ho adorato quel gioco era Luca Bozza tra l'altro esatto io l'ho adorato coincidenze io non credo ragazzi ho adorato giocarlo in versione però avanzata cioè senza leggere leggendo solo la prima carta del caso e ricostruendolo alla cieca senza leggere le domande che l'ho trovato molto più sfidante ho fatto sicuramente soprattutto quelli lunghi sì i primissimi li ho giocati normali poi quando ho visto che mi era troppo facile perché ho un ottimo colpo d'occhio su questi tipi di giochi allora ho detto no le carte le metto da parte giro la prima per vedere da dove comincia e poi vado a cercarmi tutto e quando penso di aver capito tutto leggo le domande e rispondo e mi sono divertito da matti l'abbiamo giocato in due con mia moglie è stato veramente fantastico per me tra l'altro è una modalità suggerita proprio dal regolamento sì sì proprio dal regolamento arrivano invece critiche dalla chat dicendo che si consuma in una serata io io per esempio potrei giocarci tipo un mese perché no dai io l'ho giocato io non credo io non credo che sia un difetto il fatto che si possa consumare anzi se ti fai 16 casi in una serata vuol dire che ti è piaciuto tantissimo è vero lo puoi fare in una serata però ci stai 4 ore più o meno 3 ore tutte è un escape room da tavolo uguale però per me per l'esperienza di gioco che mi dà cioè l'innovazione è anche questo cioè avere giochi che creano un'esperienza un gioco che avrei voluto avere in gara assolutamente di qualche anno fa è The Mind che per alcuni non è nemmeno un gioco io ho notato che è molto divisivo c'è chi lo adora e io l'ho adorato e c'è chi lo detesta cioè punti di vista neutri non ne ho visti ho un caro amico che dice che non è un gioco da tavola è una patologia a me è piaciuto un sacco ed è un'esperienza non è un gioco in senso stretto non ha una meccanica di gioco in senso stretto però credo che l'innovazione vada anche in questa direzione cioè trovare qualcosa di nuovo vuol dire anche rischiare di fare qualcosa di estremamente divisivo e credo che un po' la difficoltà nostra nel valutare questi giochi è che o ti piacciono tanto o ti piacciono poco ma proprio per gusto tuo non perché funzionino di più o di meno perché aderiscono ai tuoi gusti a quello del gruppo dei gruppi con cui li provi sì ma poi alla fine come hai detto ci giochi 3-4 ore tra le 3 e le 4 ore secondo me con tutto 30 euro alla fine ha lo stesso costo di un escape room di quelle diciamo singole tipo d'excape costano 10 euro e ci giochi un'ora quindi più o meno assolutamente e poi ti rimane volendo io li ho giocati tutti nei primi 15 giorni in cui mi è arrivato il gioco ed eravamo alla fine dello scorso era appena uscito insomma sì 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 anche io l'ho preso subitissimo ma io sono sicuro che se oggi lo dovessi se oggi lo dovessi riprendere in mano 50% dei dettagli in ogni caso me li sono persi non me li ricordo cioè non mi ricordo né dove sono né che cosa sono esattamente magari mi ricordo un caso in particolare me lo ricordo lo cito senza fare spoiler ma chi l'ha giocato lo capirà una domenica tranquilla che è quello del vecchietto che va messa e poi sparisce e non si sa che fine ha fatto quello secondo me te lo ricordi perché è anche un po' particolare e molto divertente ma magari altri assolutamente no rispondo in chat a Bipolar che chiede se era quello che ho fatto provare a lei e Nick sì era quello quello che avete provato voi era la demo che era la mappa piccolina con il caso di 3-4 carte non mi ricordo che ci aveva inviato MS ma io ho provato la demo e il giorno dopo l'ho ordinato è stata proprio sì sì assolutamente ma fa quell'effetto lì tra l'altro la demo è giocabile anche online sul sito c'è il sito Micro Macro e tra l'altro è leggermente diversa rispetto a quella che ha mandato a noi MS edizioni quindi è pure leggerissimamente differente anche se online secondo me non rende non ha non ha quello stesso appeal perché puoi zoomare la mappa in digitale invece è proprio la figata grossa è questa mappa enorme quella della scatola che non sai da che parte rifarti perché è veramente grande cioè sul mio tavolo di cucina 2 per 2 per 2 è una roba del genere eh sì è 2 metri 2 metri per un metro è una roba del genere è rettangolare ma insomma è molto molto grande ma non abbiamo mica solo questo ne abbiamo i titoli belli tra l'altro è finalizzato quindi esatto andiamo avanti e a proposito di escape room il prossimo è proprio un escape room ovvero fuga dal manicomio della tv giochi che contiene appunto al suo interno 10 casi diversi questo però è da 1 a 6 giocatori quindi aumentano un po' i giocatori possibili al tavolo ma qui allora intanto ti correggo è un escape room ma non è proprio un escape room cioè un po' ibrido anche questo no Luca sì assolutamente sì diciamo che la definizione migliore che mi è venuta in mente è è una via di mezzo tra l'escape room e la serie tv il modello del legacy la cosa che ci ha colpito e che è l'originalità per cui il motivo per cui l'abbiamo scelto è che non hai solamente 10 escape room di fila una dietro l'altra che raccontano una storia molto articolata io da giocatore di ruole dall'harper nell'escape room spesso lamento un po' la mancanza di una storia nel senso che a volte l'ambientazione è molto molto labile è un po' appiccicata e a volte è solo una sequenza di enigmi alcune sono molto belle la maggior parte un po' meno e tra parentesi secondo me una delle più belle è Exit Assassino sull'Oriente Espress dove c'è veramente uno sviluppo narrativo molto articolato per essere un escape room qui hai una trama che ovviamente è più articolata perché è diviso in 10 partite spezzate in maniera chiara cioè sai quando iniziano e quando finiscono con una valanga di materiali organizzati molto bene con una valanga di testo anche tradotto perfettamente ci tengo a dirlo perché la localizzazione a volte è un punto dolente dei giochi ma l'altra cosa che ci ha colpito per l'originalità è che sono le storie di 5 personaggi che si intrecciano tutti coinvolti nella fuga di questo manicomio anche qua senza fare spoiler c'è un paziente che sostiene di non essere matto e poi magari lo è davvero ma questo lo lascio a chi lo giocherà medici infermieri un giornalista che vuole scoprire fare lo scoop della vita e non si sa perché lo fa proprio in manicomio e si intrecciano fra di loro nel senso che ogni avventura tu sei il gruppo di gioco è quel personaggio e le scelte che fa un personaggio in una storia vanno a modificare i bivi nelle successive per cui ci sono delle variazioni a seconda di quello che fai proprio a livello narrativo non solo a livello di enigmi sugli enigmi non so cosa dire nel senso che a suo tempo quando l'ho presi avevo visto la minuta di la recensione di Teo che diceva beh un gioco molto bello molto interessante una trama ricca articolata gli enigmi sono abbastanza semplici probabilmente per non farvi perdere il filo della storia perché se vi fermate 20 minuti su un enigma perdete un po' il filo o Teo è bravissimo o io sono una pippa nel senso che io su una buona fetta di enigmi mi viene da dire un 50% mi ci sono rotto la testa cioè evidentemente ho una propensione a enigmi diversi ma io non li ho trovati per nulla facili alcuni semplici altri no ma comunque di difficoltà variabile ma lì credo che dipenda un po' è come quando fai il test e il cui delle domande che ti fanno ma te è un professore di matematica quindi è probabilmente sono molto affini al suo modo sì è vero c'è un enigma in particolare con le mattonelle cioè sì no è una roba impressionante perché c'è un enigma in particolare mi ricordo che ci siamo rotti la testa in tre per una mezz'ora poi abbiamo guardato le soluzioni perché il manuale ti dà i suggerimenti e le soluzioni e di solito i suggerimenti è l'unica cosa cui sei arrivato poi ho chiamato lui per insultarlo per dire allora come cazzo si fa questa roba qua cioè me lo spieghi vieni qui e fammi vedere ma no è facile vabbè poi lui è sempre gentilissimo me l'ha spiegato e ovviamente mi sono sentito un cretino ma tuttora penso che non fosse facile no io non l'ho trovato estremamente complesso come qualità degli enigmi ma l'ho trovato della difficoltà giusta cioè qualcuno sì ti dà quella sfida un po' in più però non sono troppo diciamo sopra le righe a volte trovi ho provato qualche escape room dove l'enigma è messo lì apposta per farti bloccare pertanto sono fuori di testa sì e anche il sistema dei suggerimenti l'ho trovato molto carino con i tre librettini piccolini con le cose scritte alcune a capo di sotto per essere sicuri che non le leggi per caso sì o capovolte sì sì no un bel edit poi questi due cofanetti cioè fatto proprio a cofanetto fatto proprio a ricordare una serie tv per cui tu ti giochi i primi cinque casi e usi solo i materiali di una scatola poi metti via tutti quei materiali e tiri fuori l'altra mappa gli altri materiali gli altri indizi e la vuoi sull'altro anche questo se vuoi lo puoi giocare in una serata è altre anticipo sì una serata molto lunga però una serata molto lunga sì almeno perché un'ora media testa secondo me deve essere un treno per fare un'ora per ognuno sì 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 questo ha un tra l'altro un rapporto diciamo tempo-ore di gioco anche parecchio parecchio alto perché con 40 euro ti porti a casa o ben oltre di 10 ore di gioco quindi insomma diciamo ha proprio 5 serate piene ecco se sei uno che vuole farsene 2 in una sera e quindi giocare quasi 3 sì infatti anche da questo punto di vista ci è piaciuto molto sì a me ha ricordato anche molto un po' un po' diciamo c'ha un qualche aspetto dei libro game no? perché tu hai le carte che le vai a scorrere poi i bivi che alla fine sono un po' come i capitoli del libro game però quella cosa che dicevi tu che vai a modificare la storia con il secondo mazzo che in base alle scelte ti rivia la carta con il numero nero gli metti dentro la carta con il numero rosso e poi chissà se arriverai a pescarla ma anche le stesse stanze fatte con le buste e l'enigma sulla busta è infatti che se riesci a risolverlo apri la stanza se no no è se no ciao no no ma infatti è molto 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 interessante sì ma io ho notato questa tendenza che è curiosa che c'è una convergenza tra gioco di ruolo mettiamo che il libro game lo mettiamo tra i giochi di ruolo anche se sto dicendo una bestemmia ma insomma diciamo i giochi narrativi e i giochi da tavolo stanno convergendo nel senso che l'innovazione nel gioco da tavolo va verso il narrativo va verso il testo va verso le parti al libricino per me uno dei modelli del premio Efesto è above and below che per me se avessimo avuto il premio quell'anno l'avrei voluto e l'avrei premiato a mani basse pur con dei difetti perché il gioco ha troppe cose dentro per girare bene per me dovrebbe durare un'ora in più per girare bene ma poi diventa troppo lungo però per me l'aukat ha fatto una cosa meravigliosa lì e nei giochi di ruolo si fa la cosa in base con una realizzazione scadente ma sai più che altro il fatto che se vuoi mettere una cosa estremamente americana o il libro game è un gioco germane e li vuoi mettere tutte e due insieme devono avere il tempo di svilupparsi tutti e due la parte american forse si sviluppa abbastanza ma potevano essere più lunghi raccontini e la parte germana a sua volta poteva essere più lunga però se tutte e due fossero state lunghe il doppio magari a noi piaceva di più ma risultava pesante un gioco così tre ore tre ore e mezza non so quanti la vorrebbero gioco no no non ce la fai io sono del partito di quelli che dicono che l'aucat che non so se comprende altre persone oltre me è un partito che vuole dire potrei partirmi da solo e l'aucat è migliore come disegnatore che come sviluppatore di giochi che come autore nonostante ultimamente abbia fatto un paio di giochini quelli ti stai ricredendo sì Rome secondo me è più interessante di quelli più blasonati così anche come Deep Deep Vance l'ho trovato sì tra i due per visco Rome interessante però Rome nella sua semplicità secondo me pensa che a me invece non solo mi piacciucchiano poco tutte e due ma come disegnatore non mi entusiasma è bravo tecnicamente questo è indiscutibile ma non è un tipo di disegno sì sì non come gusto dicevo come tecnica mi piace poco di above and below che mi sembra a volte di giocare con delle faccine di facebook tutto questo azzurro e tutte queste icone che probabilmente è un po' voluto però a me non è entusiasmo per l'appunto questi sono gusti io direi di andare avanti prima che arriviamo direttamente a quando verrà dato il premio esatto prossimo candidato è insomma un titolo che ormai ne abbiamo parlato in tutte le salse in tutti i colori tutti i premi ne parlano The Crew edito da Cosmos portato in Italia appunto da Giochi Uniti il gioco che in realtà è 3-7 in realtà si noi abbiamo anche giocato abbiamo anche giocato su BGA con Ken Hobbit un Keno Sì è pericolosissimo dire una delle due perché sono giochi storici che fanno parte della tradizione però l'idea di trasformarlo in un collaborativo in cui a ogni partita devi avere quella presa fatta da quel giocatore ed è dichiarato all'inizio che quel giocatore deve fare quella presa ma siccome non sappiamo le carte l'uno dell'altro c'è un lavoro di collaborazione basato un po' su indizi un po' su intuito un po' silente che è estremamente intrigante è un gioco secondo me complicato è un gioco difficile secondo me è il più radical chic dei giochi che abbiamo in gara noi cioè è molto secondo me da gamer perché è la sfida che può interessare il gamer tradizionale forse è il meno entry level fra tutti perché tra l'altro una cosa di cui mi sono reso conto col premio io temevo di fare solo giochi per appassionati di avere solo giochi per appassionati e quindi di contraddire l'idea di divulghiamo un po' in Sicilia il gioco da tavolo in realtà i giochi innovativi in linea di massima non sono mai giochi lunghi articolati e complessi perché non superano mai l'ora di tempo in una partita singola perlomeno e non sono neanche delle cose particolarmente complicate cioè a volte c'è un'idea due idee su cui si impernia tutto ma poi lo svolgimento del gioco non è non è un lasserda ecco dove devi stare lì a metabolizzare 6 regole e 25 sotto regole quindi in realtà sono giochi che puoi proporre anche a chi non ha mai giocato l'anno scorso vinse King's Dilemma che è un giocone in tutti i sensi nel senso che è molto grosso imponente materiali sono 15-16 partite da un'ora l'una ma se uno non ha mai giocato a nulla il meccanismo di gioco glielo spieghi in 5 minuti è un finto collaborativo con Aste in cui chi vince l'Aste decide prende la decisione di quel turno lì e poi si va avanti portando avanti le trame ognuno poi gioca a seconda di come gli piace chi per i punti chi per la storia io ero uno di quelli che giocava per la storia cioè spesso preferivo fare una scelta che fosse narrativa che mi piaceva di più ma che non mi appagava come come casata che fare il contrario però puoi fare entrambe le cose ma quello è un gioco che puoi proporre a chiunque non è un gioco che devi aver giocato a questo questo The Crew forse da questo punto di vista è uno di quelli un po' più di nicchia ed è anche quello che ho provato di meno perché hai bisogno di un gruppetto di giocatori e quindi confido nel gruppo di giocatori che mi aspetta al mare le prossime settimane cioè Tana dei Goblin di Pescara per provarlo e riprovarlo e finirlo perché è quello che ho potuto provare meno in pandemia perché devi essere minimo 3 ma meglio 4 e non è un family non lo giochi in casa con i bambini lo puoi fare ma secondo me non è assolutamente il suo target c'ha un'ambientazione fantascientifica ma un po' appiccicata se vogliamo lo diciamo l'ambientazione è raccontata molto bene ma poi quando giochi si perdono non c'è non c'è più non se ne sente neanche il bisogno in fondo Andrea Dado ci dice no no ci fa un commento su The Crew dicendo che se metti The Crew in mano a 4 pensionati 70 anni a patto di farli partire dalla prima missione se lo consumano peggio delle repliche di Don Camillo potrebbe potrebbe se superano lo scoglio che il 3-7 possa essere collaborativo e se superano lo scoglio che non possono fare gesti segnali o dare indicazioni come fanno da sempre giocando a carte sì potenzialmente sì è vero quindi in realtà ho detto una fesseria è un gioco grazie Andrea una cosa dici mi fai fare una figura di merda ti ringrazio veramente poi se ne hai altre dopo io sono vabbè no dalla chat proponevano Tainted Grail come innovativo adducendo modalità tipo adducendo motivazioni come quelle oddio me la sono persa graffio nessuno aveva usato fare una specie di libro game così denso anche di azioni e di sviluppo e di combattimenti Tainted Grail l'avete pensato non so quando è uscito onestamente non mi pare che ne abbiamo discusso ma non so se è uscito prima o no perché poi ci sono sballate tutte le date perché le date di riferimento per noi era era play pensa la maggio sono due anni che è la play non c'è no ma in generale devo dire che sui dungeon crawler sono molto poco possibilista perché ogni volta che esce un dungeon crawler Sword of the Sorcery Gloomhaven è sempre il capolavoro di capolavori il gioco della vita e ha quei due o tre elementi in più rispetto al prima che dovrebbe farti strappare i capelli è dalle case della follia che lo sento dire e sinceramente i capelli io ce li ho ancora tutti però voglio dire stiamo sempre parlando di gusto personale sicuramente non ci avrebbe detto nessuno ma che cazzo fate questo gioco non è per nulla innovativo avremmo sì potuto anche considerarlo poi ti dico se è un gioco a campagna avendo già premiato l'anno scorso un gioco di quel genere lì mi sembrerebbe paradossale parlando di innovazione andare a premiare un altro gioco a campagna anche se questo è a miniature quello no preferirei avere una cosa completamente diversa se no dov'è l'innovazione in generale però sì l'ipotesi non è mica sbagliata ci sta però è un kickstarter però è un kickstarter quindi probabilmente per quello allora togliamo i dubbi il problema di kickstarter a livello di premio è che tu hai contatti con l'editore oltre che con l'autore noi premiamo anche l'autore questo non l'ho detto lo devo dire noi siamo l'unico premio in Italia che premia anche l'autore perché ci sembrava naturale se parliamo di innovazione originalità ce la mette l'autore non ce la mette l'illustratore ce la mette anche l'illustratore l'editore ci mette tutto quello che ci mette un editore l'impegno economico e non e infatti viene premiato ma premiamo anche l'autore ma è giusto che sia secondo me insomma ce ne sono pochi credo personalmente di premi che vanno all'autore andando avanti nella lista io trovo unmatched penso nella sua totalità credo di aver compreso proprio come sistema di gioco non no allora noi abbiamo in realtà noi abbiamo in gara match volume 1 però il sistema di gioco è assolutamente indifferente per tutti per tutti abbiamo scelto di avere la volume 1 ma intanto per logica il primo che esce e poi perché comunque hai 4 personaggi anziché 2 perché gli altri sono usciti dopo questo forse dal punto di vista dell'innovazione in senso stretto è quello meno pim pum pam degli altri nel senso che è meno roboante però al di là delle meccaniche che sono molto fluide ma oggettivamente originali perché poi gli schirmish un po' tendono a somigliarsi però questo ha una pulizia un'immediatezza di fondo che pochi hanno chiaramente l'elemento originale centrale è il fatto di aver preso personaggi dell'immaginario collettivo fantasy nel senso più ampio del termine cioè la letteratura fantasy e averli messi insieme per cui io prendo la mia action figure di E-Man prendo la mia action figure di Iron Man e li faccio picchiare e vedo ti vince credo che un po' l'idea degli autori fosse questa in origine cioè ricordare una cosa che si faceva da bambino e nella scatola base ci sono Medusa Simba del marinaio che forse è un po' più è quello un po' più boomer dei personaggi perché che ha vent'anni non so quanti ventenni sanno chi sia però per me il cartone animato è uscito che io insomma ero non così piccola però è quello meno mainstream io il cartone animato non l'ho mai visto è quello meno mainstream Medusa è il personaggio della metodologia greca Re Artù con annesso Merlino e Alice nel Paese delle Meraviglie che è una meravigliosa Alice steampunk con uno spadone che ricorda quello di Berser che solo per quello devo dire che la miniatura io la adoro ha dei materiali curatissimi molto molto belli sia le miniature che le illustrazioni delle carte e devo dire che rispetto ai giochi di questo tipo ho apprezzato il fatto che ti viene e si voglia di comprare gli altri ma non ce n'hai bisogno cioè non è un gioco che dopo aver fatto sei partite col base se non ti compri un'espansione non ci giochi più puoi benissimo continuare a giocare con questi quattro personaggi magari provarli magari ti affezioni a uno vuoi giocare quello oppure vuoi provare io per esempio c'è il povero Re Artù in tutte le partite che ho fatto io le ha sempre prese che lo tenesse quello dato per eppure eppure c'ha Merlino dietro che insomma proprio pro scarso non è però probabilmente perché ha delle carte che devono uscire bene se ti escono male è così però ho visto anche delle espansioni interessanti tra l'altro Man Calamaro ha in previsione di far uscire oltre all'espansione Bigfoot e Robin Hood che è già uscita anche altre già altre due scatole entro il 2021 di cui una non ricordo male c'è un bel wolf e cappuccetto rosso sì e cobble and fog e poi quella sì che quella è tematizzata perché c'è dentro Dracula Uomo Invisibile Frankenstein però l'Uomo Invisibile non ha la miniatura credo c'è l'Uomo Invisibile c'è Jekyll e Hyde esattamente sì la leggenda degli uomini straordinari un po' eh sì è vero e quello secondo me è un gran bel candidato anche al gioco dell'anno mi pare mi pare perché ho dato una scorsa veloce agli iscritti che ci sia come credo ci sia anche al micromacro però secondo me sono vabbè li ho scelti quindi li considero degli ottimi titoli dal mio punto di vista però anche da quello tutto sommato non lo so se è un filino troppo complesso perché alla fine c'è tre regole basta che leggi cosa ti dicono le carte e le metti in pratica non è che devi fare chissà che giusto per completezza il quarto personaggio della scatola è Sherlock ah si dico e lì sono curioso di vedere alcuni aiutanti chi sono è abbastanza la scatola potrebbe essere è l'uomo invisibile che sarei curioso di sapere chi c'ha la donna il cognato il cognato invisibile tanto non si viene c'ha Paolo Brosio dopo Paolo Brosio ma perché l'ultimo titolo l'ultimo titolo che ci hai che ci hai fornito per questa categoria è Dungeon Drop di Raven Distribution che è oggettivamente un gioco strano è un gioco folle è un gioco folle sarò assolutamente sincero la prima volta che l'ho visto ho pensato ma che cagata perché il Dungeon per me ma penso per molti è schiavo dell'estetica delle miniature cioè io sono uno di quelli cresciuto a HeroQuest e che tuttora ce l'ha e ogni tanto lo mette giù quei bambini quindi l'idea di un Dungeon senza nessuna miniatura anzi con questa cosa strasintetica e graficamente asciutta all'inverosimile mi sembrava un pugno nello stomaco invece poi l'ho provato e mi sono ricreduto perché è estremamente divertente a parte che metà dei cubetti la prima partita mi sono cascati fuori dal tavolo ho deciso che forse la mano per farli cascare deve essere un po' più bassa per chi non sa come funziona è un Dungeon Crawler in cui in realtà tutti i personaggi tutti gli elementi architettonici i muri pilastri le porte tutti i mostri e tutti i tesori sono cubetti ma cubetti di pochi millimetri di diametro tu li peschi dalla scatola con una manciata li lanci sul tavolo cercando di prendere il tavolo e poi con il tuo mino a turno cerchi di visualizzare la stanza migliore per fare razzia di tesori menando meno mostri possibile perché i mostri li meni ma ti tolgono energia cioè il combattimento automatico sono tre turni quindi un gioco anche molto breve eravamo un po' indecisi se metterlo tra i filler o tenerlo tra i big però l'idea innovativa ci sembrava da big ecco più che da filler e poi è un gioco che per sua natura prevede che tu abbia un'infarinatura di quello che è il mondo fantasy cioè tu non giochi a munchkin se non hai mai giocato di ruolo o non hai mai giocato di indie perché se no non ti dice nulla e non ti diverte questa è la stessa cosa secondo me quando peschi le carte c'hai il ladro il ladro troll oppure il chierico mezzelfo non ti dice nulla se non vieni da quel mondo lì e invece appunto l'ho trovato estremamente divertente adatto a tutti assolutamente a tutti veloce immediato poi ha questa scatolina cubica piccolissima che io amo molto perché mi piacciono i giochi che hanno la scatola delle dimensioni giuste in questa me c'è meraviglioso che ha lo scomparto per qualunque cosa è una roba infatti non la metto in verticale perché mi si sminca io la metto in verticale e funziona ma tu sei una brutta per sconti hai visto la gommina sopra? no 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 funziona sta da solo basta mettere la fustella sotto l'inserto per riempire questo messaggio ah è un metodo della fustella sotto l'inserto poi i giurati che l'avevano preso prima ancora che lo scegliessimo cioè sia Salvatore che Dato mi hanno detto no guarda prendiamolo perché è veramente un gioiellino non è solo originale è anche un bel gioco perché poi rischio è quello di avere un gioco originale ma con problemi di meccanica quello qualche anno fa era uscito adesso non mi viene il nome perché sto purtroppo invecchiando quello dove avevi la calamita e muovevi il lumino muovevi i personaggi sulla plancia tramite la calamita ma c'era brava faceless che però aveva dei problemi la prima edizione uscita c'erano delle calamite capovolce era rotto fondamentalmente aveva dei problemi grossi di meccanica sulla prima edizione che poi credo in parte abbiano sistemato quello mi sarebbe piaciuto averlo con tutti i rischi del caso perché se poi non funziona anche nictofobia era molto interessante però dentro il trap lo devi utilizzare solamente su tavoli gem praticamente perché sono quelli che hanno il rialzino altrimenti i cubetti ti saltano o molto grandi o ti prendi il coso extra la base extra sì diciamo che è un gioco un po' bugiardo perché vista la scatolina dici dai facciamo una partita in treno metti che non l'hai mai visto non hai aperto la scatola poi lo apri e dici forse non è il caso forse ti trovano a raccogliere i cubetti in treno si gioca 8 minuti per un impero assolutamente consiglio spassionato oppure trans Europa trans America poi i treni quelli sono perfetti per il tavolino del treno voglio toglierti la curiosità degli aiutanti della scatola Cobble and Fog di Unmatched l'uomo invisibile che la miniatura c'è solo che c'è il cappello insomma gli manca la faccia praticamente c'ha il vuoto al posto della faccia c'ha l'impermeabilone il cappello ha come aiutanti tre segnalini nebbia ah ok e jekyll and Hyde da solo e si trasforma Dracula ebbè immaginavo le sorelle Renfield o le ragazze le sorelle le mogli le sorelle three sisters sidekick tokens e Holmes ha ovviamente Watson ebbè il dottore dal facchino al dottore eh sì e questa poi ci sono interessanti questi sono i cinque candidati a oggi dovremmo avere un altro titolo ancora però non voglio ancora dirlo perché non siamo sicuri è molto probabile dovremmo avere anche un altro titolo quindi dovrebbero essere sei candidati tra cui sceglieremo i tre finalisti eh no la casa non si dice la casa eh no vabbè non si dici niente lanci il sasso e nascondiamo praticamente no è per dire che non è finito solo per dire che non è finito chiuderemo vabbè le iscrizioni siamo andati lunghi nel senso che non abbiamo avuto più la necessità di chiudere per la fiera con la fiera saltata allora ci siamo dati un mese in più per poter anche provare i giochi con più calma visto le difficoltà legate alla pandemia noi comunicheremo il vincitore a un evento che è ancora in data da definire che sarà a Catania a settembre o forse ai primi di ottobre ma siccome è in data da definire non lo so non lo posso annunciare spero che non spero che sia il più possibile lontano da play anche per evitare di dover scegliere io a quale delle due andare perché ovviamente vado al premio mio non a play ma mi piacerebbe tantissimo andare a play in base a quando avremo la data di questo evento decideremo quando comunichiamo i finalisti che comunque sceglieremo ad agosto perché faremo una riunione online non tanto per la pandemia ma perché stando io a Milano Dado a Torino Sganansium superi i colli del Veneto uno a Traponi e uno a Catania cioè più lontani non potevamo essere quindi noi faremo sempre le riunioni online tra giurati perché è inevitabile è un peccato perché l'idea di trovarsi a giocare ci piace molto ci eravamo andati appuntamento a play come appuntamento fisso ci troviamo giochiamo e chiudiamo con le iscrizioni ma non abbiamo ancora avuto il piacere di poterlo fare magari nel 2022 lo faremo come si deve e poi abbiamo i tre filler ma volevo dirli velocissimi così almeno non ci stiamo troppo diciamo i filler sì diciamoli assolutamente i filler sono solo tre perché sarebbe bello provarli nelle fiere cioè i filler è il gioco che provi in fiera in teoria ne è un sacco poi in realtà senza le fiere è più difficile trovarli selezionarli è diventato molto più complicato però sono anche abbastanza diversi tra loro perché sono un gioco folle un gioco a percorso e un collaborativo sono Yokai che è pubblicato in Italia da Playa Game e di Julien Griffon ed è un collaborativo puro per due o quattro giocatori che sfrutta alcune delle meccaniche del memory su vari livelli di difficoltà e mi è piaciuto molto l'ho trovato molto interessante da giocare anche con i bambini sono quei giochi l'idea nostra del filler è che magari non saranno originalissimi come gli altri però il gioco che ha quell'idea quella scintilla quella chicca che te lo fa provare in fiera in due minuti e dici vabbè mi piace costa poco lo compro che in realtà è un po' l'effetto che fa anche Micro Macro però anche con Micro Macro alla fine abbiamo scelto di metterlo tra i big perché alcuni casi sono un po' più lunghi però l'effetto l'effetto wow è un po' quello poi c'è Pacal del già citato Luca Borsa che oggi fa 80 anni gli faccio anche io i miei auguri e Luca Bellini che non so quanti anni faccia ma mi pare che sia mio coetaneo quindi un po' meno edito da cranio edito nel senso che l'editore non è un localizzatore quindi è tutto loro ed è una corsa nella giungla per arrivare primi al tempio e il meccanismo per arrivare al tempio è usare il gioco del 15 e io sono molto contento di questo gioco perché il gioco del 15 a me ha sempre fatto assolutamente schifo cioè non sono capo sono negato quindi non mi diverto quindi non ci provo non lo imparo e mi respinge come il cubo di ruby e invece questo gioco me l'ha fatto piacere perché lo rende immediato lo rende divertente visualizzare i codici corretti per andare avanti è molto semplice è una partita dura meno di 10 minuti e ha un meccanismo di bilanciamento per cui sei avanti sei rallentato e quindi quelli più bravi non è detto che vincano perché a un certo punto ci hanno tirato e l'ultimo è Captain Wonder Cape per gli amici di Capitan DC di Lanza Vecchia e Obert erano altri due folli poi io Obert lo amo per Isteri Coach e per Tokyo Train cioè per me sono due giochi meravigliosi che è distribuito in Italia da Olimpade da Gianfranco ed è forse il più folle dei giochi in gara sicuramente il più originale nel senso che il principale materiale di gioco nonché meccanica è un rotolo di cartigenica che è il mantello di questo supereroe che cerca di srotolarlo perché gli si è impigliato non si sa bene dove forse meglio non saperlo mentre i cattivi villain di turno gli tirano letteralmente le cacchine le goccine di acqua il regolamento dice acqua mi raccomando per cercare di farglielo rompere ed è abbastanza folle è un gioco che mi dispiace tantissimo che non abbia visto un periodo di fiere perché è proprio il classico gioco che crea il casino intorno è questo gioco come è il salmo è proprio il filerino da fiera ma neanche ma neanche da fiera di settore proprio da momento goliardico dove ci sono tante persone cioè non è necessario che sia una fiera di settore quindi secondo me era anche perfetto per appunto etna comics si ha detto benissimo è quel gioco un po' alla happy salmon come mood o alla gino pilotino con gli sciottini come fanno gli amici di genova che saluto con affetto questi sono tre e quindi vanno automaticamente in nomination tutti e tre perché va da sé che non si fa una scelta non ha senso ma sono contento perché secondo me sono molto diversi ma molto validi questo è quanto mi sembra che la chat dicono chiedo wavelength se poteva essere un se poteva essere un possibile candidato potrebbe essere ma smodeo uno degli editori che si è detto non interessato personalmente a me piace molto anche il trauma del tram sì comunque il trauma del tram è secondo me meraviglioso anche se il titolo non mi piace però il gioco secondo me era veramente in linea secondo me il titolo italiano fa perdere un po' di non so come altro potevano tradurlo obiettivamente il dilemma perdi l'assonanza però insomma c'è stata una scelta sì in inglese o lo lasci in inglese è come tradurre hold the door che vuoi fare cioè trova un modo era capricciante però è l'unico modo che c'è che reggi la porta non lo trasformerai mai in odore quindi è un lavoro infame in quel momento lì dover localizzare oppure prendi uno squilibrato come Cannarsi lo puoi fare a lui e quindi non si capisce nulla né in italiano né in originale e hai risolto il problema però esatto nel tratto di del trauma e del tram ne abbiamo parlato nella live 32 del 24 maggio per chi non l'ha vista andate l'altro ieri praticamente sì sì proprio ah è che a modi ha preso insomma una decisione abbastanza chiara perché mi sembra che non è l'unico premio al quale ha deciso di non partecipare ho detto mi fanno io io credo credo che abbia fatto una scelta come dire adulta nel senso che Asmodee ha dimostrato di essere leader nel settore in pochi anni cioè è entrato in un settore in cui sembrava che non ci fosse spazio per nessuno se non molto piccolo e in 5 in 6 anni è diventato assolutamente il player protagonista proponendo ottimi titoli e prendendone anche ad altri quindi sì quello sicuramente c'è però comunque hanno il grano si è affermato e oggi è sicuramente uno dei grani da una parte è anche vero che Asmodee viene distribuita in tutte da tutti i giornalai cioè il pacchetto con il download è davvero il giornalario e quella è rivoluzionaria quella cosa il problema della distribuzione quella è la distribuzione era ferocissima nei settori e passare da una parte all'altra passare dal piccolo è grande cioè andare a competere con i giganti con Hasbro con Lego con Mattel Playmobil dove c'è sia il giocattolo che il gioco da tavolo ma il giocattolo è molto più forte ha molto più peso è un azzardo ma secondo me è giusto che un editore ormai di peso come loro ci provi e andando su un mercato diverso fa anche un tipo di comunicazione di promozione diversa cioè credo che Asmodee sappia che i suoi titoli di punta non gli serve che vincano non solo che partecipino ma che vincano un premio per essere conosciuti dagli addetti ai lavori perché li conosciamo comunque anche perché come sapete a Lucca il padiglione Carducci è costruito intorno ad Asmodee quando chiede a qualcuno ma scusa tu dove ce l'hai lo stand ti risponde di fianco ad Asmodee grazie al cazzo è centrale Asmodee è al centro è al centro sono tutti intorno un po' più piccoli un po' più grandi e quindi è inevitabile che siano vicini a loro e quindi hanno fatto questa scelta anche di andare su una promozione loro sono tra quelli che spingono molto sugli influencer fuori fuori dalla nicchia e secondo me fanno benissimo cioè se sono riusciti a uscire ad arrivare in una distribuzione che fino a qualche anno fa era impensata è perché è perché hanno fatto questo salto hanno anche la forza economica torniamo ai soldi di qui sopra spingere sugli influencer che contano costa però non è che Giochi Uniti ne abbia meno di soldi o ne investa di meno di soldi nel settore per dire un editore che ha il suo il suo peso poi stai gli influencer non so non sai mai chi e quanto è pagato ma siccome è il suo lavoro essere pagato è assolutamente normale che lo sia cioè a volte qualcuno si indigna ma io faccio il giornalista e se parlo di qualcosa dovrei farlo perché lo ritengo giusto sia nel mio lavoro turismo che nei giochi ma perché quello lo dice il mio codice deontologico è il mio lavoro ed è fatto così poi sapete benissimo che ci sono una valanga di giornalisti che si vendono per una bruschetta e un bicchiere di vino l'influencer è una cosa completamente diversa che io stesso faccio fatica a capire perché è un'evoluzione dell'evoluzione dell'evoluzione e quindi è assolutamente coerente col fatto che abbia che si è pagato per promuovere uno un prodotto o un altro soprattutto se vai su un'area che è diversa dalla tua tutti abbiamo questo sogno di ragnico non ciò da fare in mano o meglio non è vero hai creuto hai costruito una relazione di fiducia con chi ti segue e quindi tu vieni pagato per poter utilizzare quell'audience cioè è normale la tua sta affittando la tua credibilità se mi passi la definizione cioè tu sei credibile e comunque tu dici sì e no quello che vuoi nessuno è mai costretto cioè se una cosa non ti piace non ti diverte non la vuoi fare cioè penso a Camille Camille che ultimamente ha fatto molto sui giochi da tavolo lei non è una una youtuber di giochi da tavolo un'influencer di giochi da tavolo però è un settore di cui si interessa da sempre è appassionata da sempre frequenta le fiere comunque non gioca come giochiamo noi però non è che è stata catapultata dal nulla nel gioco da tavolo cioè il suo pubblico non è che se la vede con in mano un gioco dice non è Clio Makeup che non c'entra assolutamente nulla e non funzionerebbe non è vero perché c'è un sacco di giochi Clio giuro allora tu non mi devi tu non mi devi mai contraddire questo era l'accordo tu non mi devi mai ma no ma non è vero no prima hai fatto un se qualcuno lo vuole dire anche in chat pensavo non la conosco Clio quindi hai fatto un piccolissimo o meno altro nome dai così almeno ne dico uno giusto stavi dicendo una cosa secondo me è uno spunto interessante cioè stavi dicendo e poi ti stavi correggendo ma abbiamo rapidamente cambiato discorso dice tutti sogneremmo la Ferragni con un gioco da tavola in mano e poi ha detto anzi forse no perché secondo me la Ferragni con un gioco da tavola in mano ce l'abbiamo vista tra l'altro c'è stata c'è stata ed è stata infatti molto molto discussa lo so però ho già detto due parolacce il punto è io adoro giocare a Marco Polo a Lorenzo a Terra Mistica ma non è che posso pensare di avere nuovi giocatori che mi faccia fare in parte nel quel gioco quindi se voglio avere nuovi giocatori devo andare ad un altro tipo di gioco ho voglia di farlo non sono venuto a fare divulgazione io posso andare in un'associazione ludica e giocare 15 anni con lo stesso gruppo allo stesso mattone va benissimo cioè non è un problema il problema è quando decidi che ci sono i giochi di serie A quelli complicati belli che fai tu i gioconi e poi ci sono i giochi stupidi o per stupidi già ancora che sono quelli molto semplici molto easy con quattro pagine di regolamento che vanno bene per gli altri per quelli che non sono all'altezza di passare 25 minuti a posizionare le miniature per fare la partita di questo o di quell'altro l'errore di fondo è quello lì cioè tu devi giocare a quello che ti piace se hai voglia di fare divulgazione la divulgazione ha delle regole che passano per certi giochi se ti impunti che tutti quelli che vengono in associazione devono imparare terra mistica 19 volte su 20 batterai contro un muro e una volta ti andrà bene ma non stai facendo divulgazione tutto lì bisogna che ti faccia un applauso però sì perché non avrei saputo dirlo meglio troppo buoni troppo buoni no no è vero è verissimo perché ora a parte che io gioco il cinghiale da quattro ore tanto quanto il fillerino da mezz'ora volentieri se è fatto bene è un gioco piacevole però come dici giustamente cioè o fai divulgazione alla tua cerchia quindi non è divulgazione è indottrinamento del tuo super mega cinghiale o se no cioè a fine ognuno si diverte un po' cioè se a me piace il monopoli e ecco continuo a piacermi il monopoli e voglio giocare a monopoli vabbè sto giocando mi sto divertendo l'importante è quello poi lì nasce un altro problema il problema che si dovrebbe imparare a quattro anni la differenza tra non mi piace e mi fa schifo ai bambini piccoli gli insegni che se una cosa da mangiare non gli piace non si dice mai mi fa schifo ma si dice non mi piace perché è un tuo parere soggettivo per monopoli è il contrario monopoli è oggettivamente un brutto gioco vecchio datato e pieno di difetti che piace a un sacco di gente per mille motivi uno dei principali secondo me è che hanno giocato a pochissimo altro ma se ci giochi e ti diverte perché devi provare qualcosa d'altro non ne vedo neanche la necessità e quindi il problema è quando poi io sono il primo che mi rendo conto che tendo ad avere l'atteggiamento snobistico che non mi piace e di dire la prima cosa quando uno mi dice ah monopoli guarda monopoli ha 89 anni e li porta anche male semplicemente adesso i giochi sono più brevi non ti eliminano dopo due ore di partita non sai già chi vince e vai avanti altre due ore sapendo che lui vince tu perdi che sono tutte cose magari per noi del settore un po' ovvie ma per chi gioca da fuori ma i giocatori si evolvono cambiano vent'anni fa venticinque anni fa quando c'erano i war game di moda si giocava Diplomacy ad Axies and the Lies e anche a Risico che era il fratellino facile che un gioco da tavolo durasse tre quattro ore cinque ore non era una cosa che turbava nessuno era normale e monopoli dura nessuno ti dice anche quelli che giocavano tanto a monopoli ma si è un po' lungo magari interrompiamo ma non è che ti dicono era lungo un'eternità non è percepito come un gioco lungo oggi non esiste un gioco di quella lunghezza con quella struttura perché c'è stata un'evoluzione del game design ma è diverso anche il nostro tempo a disposizione cioè quello che il game design ci offre è comunque proporzionato a quella che è la nostra vita cioè quindici anni fa fare un reel di quindici secondi di dodici secondi e metterci dentro dell'informazione come succede oggi tutti i giorni su instagram sarebbe stato impensabile che tu potessi dare informazioni in dodici secondi neanche come te chiami sì sì assolutamente sì Luca io però questo discorso mi interessa molto però devo interromperlo perché dalla chat l'unica cosa che vogliono sapere è sta storia del toy boy io rido perché avendo la vissuta sulla avendola vissuta sulla mia bacheca di facebook proprio dai primi passetti timidi dai raccontaci questa storia che cosa ma questa no questa storia è nata da un'idea assolutamente folle che mi è venuta in pandemia per cui in un momento non adatto per certi versi è adattissimo per altri e io ho detto ma io mi occupo di divulgazione ludica da una decina d'anni sono senza falsa modestia un buon divulgatore e un bravo spiegatore di giochi e sapete che non è per nulla una cosa scontata anche tra gli addetti ai lavori quando andate in fiera ci sono quelli bravi e quelli meno bravi a volte è difficile spiegare un gioco in maniera corretta soprattutto se non hai riferimenti di chi è davanti non sai cosa conosci cosa non conosci ho una discreta collezione dico discreta perché un centinaio di giochi sicuramente non molti meno di voi tre ma ho sempre selezionato molto per esigenze di spazio e di gioco cioè se non ci gioco mai o non ci gioco a casa mia non lo tengo se ci gioco solo in associazione o in ludoteca io ne frequentavo tre tra Milano e provincia è inutile che mi tenga una copia mia cioè non ho non ho il feticismo della collezione non sono mai stato collezionista né di fumetti né di giochi da tavola assolutamente non imbusto i giochi l'unica eccezione è Flam Rouge ma perché mischi 50 volte a partita ma se no li tratto molto bene ma non faccio tutte queste cose qui molto curate e allora ho detto diciamo così ho il know how ho i giochi ho il tempo ho la voglia di farlo perché non proporre non provare a propormi come persona che ti porta i giochi a casa te li spiega te li racconta te li fa giocare se vuoi li gioco io con te se sei da solo o se siete in pochi se siete invece magari già due o tre quattro persone giocate voi non c'è problema io non vengo per giocare in senso stretto anche se mi diverto e vediamo un po' questa cosa qui ne ho parlato anche con diversi colleghi giornalisti che non c'entrano nulla col settore dei giochi è un po' anche colpa loro se l'ho fatto perché quando ci pensavo all'idea ho detto ma forse non lo so è un'idea nella nicchia sicuramente non funziona non prende non piace perché non lo fa nessuno e chi lo fa lo fa gratis nessuno ti vuole pagare per giocare ma d'altra parte nessuno paga l'amico idraulico per farsi riparare un tubo è un amico gli chiede di venire gratis secondo me sono sbagliate entrambe le cose ma questa è una mia opinione personale e due o tre amici amiche giornalisti mi hanno detto ma guarda che è una bellissima idea e hanno fatto degli articoli in giro e quindi è nata un po' insieme a loro per colpa collettiva di una categoria che deve trovare il titolo a effetto senza voler fare i titoli a chiappa click però insomma lo spiegatore di giochi o il divulgatore di giochi cioè non vuol dire nulla è brutto è chiaro a noi ma non dice nulla il toy boy funziona molto di più avessi avuto un altro fisico probabilmente funzionava ancora meglio avessi avuto la possibilità di fare le foto con le scatole mezzo nudo queste cose l'avrei fatto se fosse stata una cosa possibile l'avrei fatta perché alla fine anche il trash funziona e quindi ho detto vabbè proponiamo questa cosa qua ovviamente la community si è sollevata in gran parte nel senso che molti hanno detto bellissima idea poi quando hanno capito che non era vado a fare beneficenza ma voglio essere pagato che per me era ovvio eh intendiamoci per me era ovvio cioè io ho il gioco te lo porto te lo spiego te lo faccio giocare tu stai noleggiando una scatola e me che te lo spiego e non ci conosciamo non c'è un rapporto di amicizia non è che passo dalle vostre parti e mi dite oh vieni giù porta dietro un match che lo vorremmo provare non è che vi dico datemi 20 euro per carità non ci penso nemmeno però per me è normale sto facendo un servizio che però nessuno fa poi nessuno lo fa perché non c'è richiesta non lo so vediamo proviamo in realtà di richiesta ce ne ho avuta pochissima ma è stato anche legato al fatto che era un momento in cui anche chi giocava da solo non giocava avrebbe tanto voluto giocare con qualcuno e far venire qualcuno a casa ma probabilmente era più la paura irrazionale che non la voglia io dico sempre che quelli che sei mesi fa erano sul balcone a sparare a quelli che facevano footing oggi sono i primi negazionisti sui social cioè c'è stata un'evoluzione per cui a un certo punto il panico da pandemia e l'ansia è salita talmente tanto che non sei più in grado di reggerla e allora scatta la negazione questa roba non la so reggere perché ho il terrore di fare qualunque cosa non posso più uscire quindi non c'è non esiste se la sono inventata andiamo a cercare su google e google purtroppo ti dice ti trova tutto cioè io voglio trovare prove prove del figlio avuto in fecondazione da Andy e Nick qualche anno fa se cerco su google troverò una pagina che dice che avete un figlio da qualche parte assolutamente si confermo non smettisco assolutamente era fox e quindi è successo questo però non mollo ecco nel senso ho fatto un paio di cose non di più però vorrei portarlo avanti ancora poi adesso ho ripreso a lavorare molto nel weekend perché facendo il giornalista di viaggi ho ricominciato a viaggiare sono stato via tre weekend di fila quindi non avrei avuto neanche il tempo però sicuramente riprenderò in agosto lo dico per chi come me passa agosto a Milano io ci sto da Dio in agosto a Milano sono tutti fuori dai piedi c'è che ci sei tu Milano e altri quattro sfigati come sto bene io a Roma praticamente io a Roma io a Milano e il giardino che è un'altra cosa quindi potrei fare il toy boy a domicilio mio venite giochiamo in giardino che secondo me è una cosa meravigliosa all'ombra però sì sì mi sembra una grande idea se farnisci anche di anti zanzare secondo me top sì quello per forza ecco poi vabbè uno dei problemi che ho avuto ma che l'avevo messo in conto è che è molto più facile che ti contatti gente che sta lontano cioè se tu abiti a Milano hai mille alternative se tu abiti nel paese su Perimonti o fuori città tanto o nella bassa veronese in vento per dire uno e non hai né una ludoteca né un negozio né un gruppo di gioco l'intorno è più facile che tu sia interessato ho detto di no anche a un paio di persone perché non puoi dirmi vieni a Perugia capito che non ha senso non ha senso perché o tu ti sveni per pagare un viaggio se siete a Perugia chiamate Toro ci vado anche molto volentieri a Perugia ma vuol dire andarci il weekend non è fattibile è una cosa che posso fare solo intorno a casa il nostro graffio invece dice che pagherebbe per far giocare i suoi di giochi con lui perché non ha con pari di gioco dice lui gli spiega offre il pranzo gli spiega offre il pranzo la casa gli snack l'aperitivo e volendo anche il caffè era anche questa l'idea perché c'è anche gente che ha comprato compulsivamente tipo una valanga di giochi che poi non giochi mai non hai mai tempo non ti studi le regole perché non hai voglia di leggerti 12 manuali a settimana quindi non è detto che tu voglia trovare un gioco che non hai che ti porto questo di me non si può dire io mediamente ho tre gruppi di gioco a settimana quindi giocare non in pandemia li gioco ci sono tanti giocatori che magari appassionati di un genere comprano tanto di quel genere ma i loro gruppi di gioco quel genere non lo possono vedere e quindi diventa cioè per dire Dado ha un gruppo di gioco che è molto German orientato o comunque su un certo tipo di titoli per cui se portasse al suo storico gruppo di di Vic Red Byron metà dei titoli del premio se glieli porta gli ribruciano cioè non li vogliono assolutamente vedere quindi anche in quello c'era un po' un po' l'idea vediamo comunque io non demordo ecco rimane sempre in piedi la cosa non la ripeto di continuo perché diventa anche noioso ma ma resta sempre in piedi la proposta io sottoscrivo invece l'idea di Bipolar Red Fox che dalla chat dice perché non facciamo una bella comune un bel casolare nelle crete senesi di giocatori dove facciamo non so aggiungo io orto galline qualche animaletto e giochi da tavolo un bello studio io so far la pasta all'uovo e campiamo di quello io mi mi occupo bene di niente per te esatto però questa questa è ovviamente è un passo successivo ed è ovviamente una cosa molto complessa ma secondo me il futuro potrebbero essere le mini convention che già stanno nascendo in maniera spontanea cioè due o tre gruppi di gioco che si uniscono oppure magari il vostro gruppo con gli amici di ognuno che vanno a fare il weekend in un posto noi lo facciamo con le giurie gioco dell'anno gioco di ruolo dell'anno lo facciamo per provare i giochi in gara insieme per alcuni giorni l'abbiamo appena fatto con la giuria del gioco di ruolo dell'anno e quella è una roba un po' più tecnica perché è per gli addetti a quel lavoro lì però secondo me è una cosa che prenderà piede cominciare a dire ci troviamo un weekend da qualche parte due giorni tre giorni facciamo solo quello quindi non ce ne frega nemmeno nulla se c'è sole fa freddo fa caldo possiamo prenotare i weekend di novembre che non c'è mai nessuno gli agriturismi sono liberi sono vuoti non vedono l'ora di avere gente e magari è il modo di mettere insieme gente che gioca online non si vede mai durante l'anno se non alle fiere e magari converge da vari punti quello secondo me è una cosa che sta cominciando io ne ho fatte due a casa mia prima di quella che dice Shelly ne ho fatte due a casa mia dove ho raccolto tutti quelli siccome abbiamo un gruppo di gioco abbastanza allargato qui nei dintorni che ovviamente di volta in volta ci troviamo in 4-5 quelli che ci stanno intorno a un tavolo però siamo 20-30 e l'ho aperta a chi voleva venire insomma abbiamo fatto due volte una giornata intera di domenica da mattina a sera eravamo sempre la prima volta 16 insomma la seconda sempre più di 10 insomma 3-4 tavoli una svagonata di giochi e tipo micro convention giornaliera braccia accesa per farci capire c'è la casa grande e soprattutto no non è vero l'ho solo riarredata per l'occasione e soprattutto no noi abbiamo noi col fatto che abbiamo una redazione abbastanza nutrita ma appunto sparpagliata diciamo da Roma a Milano a Busto da Roma a Busto il più lontano è Ale che sta a Busto ogni tanto facciamo i Fustella Days il problema è che l'abbiamo fatto e poi c'è stata la pandemia e quindi dobbiamo organizzare ancora il secondo però l'idea era di farli un pochino più spesso ecco di una volta ogni otto anni fustella rotante e fate chiamatemi vengo a fare l'ospita anche lì occhio che poi noi queste cose le segniamo io guarda ho l'agenda segno tutto è una registrazione che non abbiamo paura di usare c'è un periodo in cui ne ho la possibilità perché sono sono spesso in giro ma molto volentieri lo facciamo il periodo in cui non c'è niente tanto da Milano viene giù anche il Pabis quindi viene Sabrina viene il Pabis c'è il Graffio graffio no non si può spostare perché c'ha il coso il braccialetto le gambe il tot da casa il braccialetto elettronico esatto quindi ci credono è vero non è vero è più a nord non avevo capito che Sabrina era più a nord vabbè comunque Luca ti chiameremo va bene però io vi faccio giocare agli astratti eh io poi io vi faccio giocare agli astratti sappiatelo eh ma gli astratti sono da due quindi ne incastrivo una volta c'è uno che si sacrifica su Andy e poi li compra anche vedo che non sono l'unico che ama poco gli astratti no no io li sto apprezzando ultimamente le avevo sempre un po' no mi sono un po' ricreduto ultimamente via e non gli avevano fatto vedere quelli belli secondo me no è che finché potevo giocare in più di due giocavo parecchio in più di due quando sono stato costretto a giocare in due ovviamente fai di necessità virtù certo va bene allora Luca eh segnato per il prossimo Fustella Days vai vai io volevo solamente ribadire il fatto che si è incastrato con le mani sue eh ognuno quando ci si frega con le proprie mani l'importante è non esagerare che se no poi si diventa perché lui sa che poi cucini te capito anche Pippo Bang sei autoinvitato sappiatelo ma io te la do volentieri la mano in cucina lo fai il primo e lo faccio il secondo non c'è problema esatto fantastico infatti come ci dice Graffio come ci dice Graffio a quest'ora di solito ci sono i saluti proprio definitivi della puntata quindi direi intanto di andare con i saluti è stata particolarmente interessante che stanno invitando a levarci più o meno la roba del cielo se è fatta una certa se è fatta se è fatta grazie davvero di essere stato qui con noi grazie a voi grazie a voi è stata veramente una bella chiacchierata e insomma a questo punto ti aspettiamo qui no? non sappiamo dov'è qui ma va bene dove sei tu o dove è uno degli altri due io e lui siamo nello stesso posto qui proprio nella stessa stanza e siamo a Sciano nel mezzo alle crete senesi nel posto più bello del mondo io sarò sarò in Toscana la settimana di Ferragosto per cui mi sa che ci sentiamo non credo che saremo vicini però non saremo neanche così lontani parliamo risentiamoci perché insomma potrei essere anche io la settimana di Ferragosto tra l'altro tra l'altro potrebbe esserci anche facciamo un rendezvous esatto Luca grazie grazie davvero grazie davvero grazie a voi ci sentiamo prestissimo e bocca al lupo per chiaramente per il premio e festo e per tutto per tutto il resto aspettiamo le comunicazioni vi terrò aggiornati sui finalisti e posto vincitore grazie ancora io ho già fatto il mio pronostico in busta chiusa ciao ciao Luca grazie ecco sì esatto graffio così sottotitiamo Nick per una puntata visto che oggettivamente Luca è bravissimo e tiene benissimo lo fa lui lui ha un tesserino che dice che lo sa fare esatto lui e non Vittorio Feltri che fa parte di un ordine poco credibile che però per lo meno l'ha levato a Vittorio Feltri per lo meno cioè proprio il minimo beh ma ci hanno messo eh sì sì penso che lui l'abbia provata tutte due anni che ci provava addirittura lui che chiamava ma siete giuri io ho scritto sta roba qui stamattina eh no no ma te vai da lasciate dicono no non è così tardi sta finendo il Costanzo Show che salutiamo perché ci osta poi ci fa il ride ora finisce ci fa il ride ci fa il ride ci fa il ride ci fa il ride bene dopo questa bellissima chiacchierata con con Luca Bonora e andiamo adesso a parlare del gioco di questa sera quindi via con la sigla per Little Town che c'è una sigla proprio specifica per Little Town c'è Little Town che Little Town siamo vicini e costruiamo le case vicino a un campo Little Town a posto Little Town edito da Yellow e portate in Italia manca la mano manca la mano dopo la campiono e ci faccio la sigla peccato hai nominato il gioco troppe volte quindi non è generica Little Town Andy trova l'analogia con Carcassonne le tessere e gli edifici sono meravigliosamente quadrate proprio come in Carcassonne e abbiamo da metterci sopra i Mipoli quindi pensate era facile era molto facile Little Town è un gioco che a differenza dei candidati del premio festo è tutt'altro che innovativo perché alla fine prendi il Mipoli e fai un'azione tra le due possibili scusate ho la sigla per il comando Nick fa le sigle la sigla è questa aspetta Nick fa le sigle campioniamo anche questa ho lasciato del silenzio alla fine per riuscire a tagliarla perfetto brava dicevamo Little Town andremo insieme ai nostri diciamo colleghi di tavolo a costruire un piccolo villaggio come dice il titolo da due a quattro giocatori andremo ad avere a disposizione delle casette e un e cinque Mipoli poi dipende dal numero dei giocatori perché scala sono cinque ma sono quattro se giochi in tre o sono tre se giochi in due in scusate in quattro o sono zero se non apri la scatola e giochi a qualcos'altro esatto di turno in turno abbiamo a disposizione molto banalmente due azioni la prima è mettere il Mipol nella zona di costruzione e costruire uno degli edifici che sono dodici a disposizione dodici più uno perché ci sono i granai pagandone il costo in risorse e ottenendo subito i punti vittoria indicati sulla tesserina oppure l'altra azione è posizionare un Mipol su uno spazio libero quindi che non contenga nessuno degli elementi diciamo del paesaggio presenti sul tabellone e che non contenga nessun edificio e attivare conseguentemente tutte le otto caselle che circondano quel Mipol quindi se intorno ci sarà una foresta prenderò una risorsa legno se ci sarà un lago prenderò una risorsa pesce la montagna risorsa pietra e per gli edifici la conseguente attivazione che può essere prendi soldi prendi grano paga soldi e prendi legno paga legno e prendi punti e così via ci sono vari tipi la cosa interessante qual è è che intanto gli edifici sono molto vari e sono in numero molto superiori rispetto ai 12 utilizzati per ogni partita quindi il setup è molto variabile la plancia è doppio si mi ha contagiato esatto guarda faccio così da solo la plancia è doppia faccia con gli elementi del paesaggio disposti diversamente quindi cambia anche proprio come è fatta la plancia in più la cosa interessante è che quando piazzi il tuo meeple puoi attivare anche gli edifici degli altri giocatori gli edifici ne riconosciamo la proprietà perché una volta costruiti ci mettiamo sopra la casetta del nostro colore e possiamo attivare anche gli edifici degli altri giocatori dando per ogni edificio di proprietà altrui che vogliamo attivare una moneta quindi paghiamo un piccolo obolo al proprietario però a volte può essere molto conveniente per esempio ci sono edifici che danno tre monete una volta attivati quindi io pago una moneta al mio avversario ma ne ottengo tre per l'attivazione dell'edificio dalla banca e quindi diciamo ci sono poi tutta una serie di incastri che si riescono a fare nel cercare di ottimizzare questo motore il gioco dura quattro round divisi in vari turni dove ogni turno andiamo a posizionare sostanzialmente un 1 e meeple quindi per esempio giocando in due si gioca con 5 meeple quindi sono 5 per 4 20 azioni molto semplicemente il gioco è molto molto veloce la scatola dichiara 30-60 minuti se non ricordo male ma secondo me il 2 per il mio ritmo di gioco dura 20 minuti assolutamente si 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 ora la prima che magari devi guardare che cosa fanno gli edifici ma tra l'altro l'iconografia è molto molto chiara e per esempio abbiamo fatto prima di cena una partita con Nick tra l'altro in penombra perché stava facendo buia la luce era spenta non solo è molto chiara ma si vede molto bene anche in penombra era molto chiara e molto romantica e io l'ho trovato molto molto interessante al punto di vista per cui è un piazzamento dei lavoratori molto molto easy molto asciutto non c'ha grandi cose però questa piccola interazione che c'è che c'è nel gemografico in penombra si pagano i pesci si si faccio così soprattutto dal tramonto perché è più romantico esatto da dietro il dicevo c'è questa componente di interazione che solitamente in giochi di questo tipo non si ha o si ha molto poco per cui puoi attivare gli edifici e gli avversari e quindi anche il posizionamento degli edifici per far sì che si lasciano delle zone libere dove poter mettere il meeple per attivare i tuoi o gli altri in base a quella che è la strategia che porti avanti nella partita l'ho trovato abbastanza interessante in più ci sono delle carte obiettivo anche qui se ne danno in numero variabile in base ai giocatori in due vado a memoria sono quattro e poi a scalare che puoi risolverle in qualunque momento quindi in qualunque momento del tuo turno sei nella condizione di poter risolvere quella carta obiettivo la giri e guadagni subito tutti oh grazie a con Grega del Dado con Grega del Dado incantato che ci raida grazie benvenuti ragazzi tra l'altro benvenuti e stiamo parlando di Little Town gioco portato da Man Calamaro che stavamo dicendo ha questa componente interazione interessante e poi anche gli obiettivi che vai a risolvere via via che ti si soddisfano le condizioni le condizioni sono delle più varie quindi abbiamo tipo rimani con zero monete costruisci due o più edifici che producono o richiedono un certo tipo di risorsa ad esempio il legno oppure costruisci più edifici edifici quanti sono i meeple a tua disposizione e così via una cosa che mi sono scordato di dire è che alla fine di ognuno dei quattro round si deve come in tutti i giochi dove ci sono i lavoratori c'è la campagna devi costruire cose che bisogna fare dare da mangiare ai nostri lavoratori esatto perché cosa che io al primo round mi sono completamente dimenticato l'ho fatto provare prima a nick e giustamente al primo round l'ho visto tutto preso nella sua strategia di produrre legno e pietra l'ho detto è ora che gli dà da mangiare ai sassi sì perché si deve avere alla fine del round una risorsa cibo quindi pesce o pesce o grano da poter dare a ognuno dei lavoratori disponibili quindi in due sono cinque e quindi devi averne cinque a disposizione e li scarti quelli che non hai da poter scartare perdi tre punti per ognuno se vai a zero vai anche in negativo che non è che confermo sono andato a meno due è partito da meno due però per un errore nella mia ultima mossa c'è da dire che ha vinto di un punto di due di due punti perché poi ho fatto tre soldi se no avresti perso di uno se no avrei perso di uno è vero è vero quindi nonostante quindi te l'ho fatta vincere mettiamola sì esatto i cubetti non si usano si usano solo per il cibo che è l'unico solo per il cibo e io questa cosa la prima partita non l'avevo capita e te facevi pesci perché ti piacevano i pesci volevi costruire un gioco di roba no no è che in tutti gli altri giochi dove devi poi dare da mangiare ai nani ai cosi ai mipolini a un certo punto questi si moltiplicano o comunque mancano di più fan feste devi pagare tasse e quindi io il primo turno che ho giocato col coso prima ancora che lo portassimo al calamaro ce lo siamo fatto spedire da Philibert praticamente ho fatto tipo sette cubetti di pesce poi non ne ho più fatti perché ho campato avevi che dare a mangiare per esempio io avevo prima l'obiettivo ottieni il doppio di cibo dei lavoratori a tua disposizione quindi può quindi può anche essere utile bisogna dire che non sono secondo me proprio fondamentalissimi gli obiettivi cioè nel senso se se incidentalmente li fai è vero perché siamo arrivati paro paro con la partita che abbiamo fatto insieme prima e io avevo puntato molto sugli obiettivi e li avevo fatti tutti te ne hai fatti forse un paio si due su quattro due su quattro e poi in realtà la partita è stata molto bilanciata assolutamente questo significa che non c'è una strategia dominante ma che è possibile ora non ho fatto le canoniche mille partite mille partite però un pochino l'ho giocato però un pochino non sei qualificato no però un pochino devo dire l'ho giocato un po' di partite ce l'ho fatto è molto 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 accessibile perché diciamo il gioco essendoci anche relativamente poche tessere diversi in gioco perché come dicevo sono dodici gli edifici diversi quindi si diciamo si inquadrano anche rapidamente e l'iconografia aiuta molto e secondo tsunami ha bisogno di un'espansioncina ma forse dopo un totte partite secondo me già il base ha un'ottima rigiocabilità ora forse bisogno cioè necessità insomma diciamo allora il gioco è carino quindi presta essere rigiocato perché è veloce e probabilmente dopo ora non ne ho fatte tantissimissime diciamo io per ora non ne ho sentito il bisogno però effettivamente un'espansioncina con un po' di edifici nuovi e magari che introducono qualche micromeccanica in più potrebbe si potrebbe ma senza andare a fare si non andrei a fare stravolgimenti perché secondo me questo è uno di quei giochi che rischia un'espansione un pochino troppo azzardata la rovina cioè sono quelle queste sono delle prove ma nulla di che eccezionale vi ho messo in chat prima il link all'articolo che scrisse il coso e anche noi cioè parlando poi al tavolo dopo qualche partita bello cosetto abbiamo pensato la stessa cosa nel senso che forse qualche edificio che dia la possibilità di fare quello scattino che dia quella meccanica leggermente più complessa forse ci vorrebbe ma è anche vero che il gioco è autosufficiente si autoconclude cioè è una piccola bolla perfetta che funziona cioè non ha bisogno di un'espansione per essere rigiocabile o per essere bilanciato a sua volta quindi andarci a mettere qualcosa rischia di renderlo un po' più peso crilio chiede l'espansione villagers cosa aggiunge non ne ho la minima idea allora andiamo a vedercelo subito si vede che mi preparo bene no non c'è nessuna espansione villagers ci sono delle promo no delle promo si c'è un c'è una promo che si chiama pallada del festival Sabrina ha appena dichiarato e io lo dico per tutti così anche gli amici del podcast lo sanno che leggerà little town presto nonostante è un articolo che ha qualche mesetto per gli articoli del podcast l'espansione villagers scusa no l'espansione villagers fortune villagers è l'espansione di little town teeny town che è quella di teeny towns che è un altro gioco di teeny towns che è un altro gioco che il mio tra l'altro stacca a casa di handy da circa un anno ma andiamo che con questo non c'entra niente non c'entra niente no e che dentro ci sono gli animalini tra l'altro mi trovo dice Grigio può darsi eh ma condividila esatto falla giurale falla giurale non la fuma tutta te perché ti fa male e scusa e se invece se la sfumano sulle gengive che ne sai che cosa fa lui va bene andiamo va fatto che io sia così preparata mi inquieta un po' mi inquieta mi inquieta un po' mi inquieta un po' mi inquieta un po' dice la sub di teeny town la sub che appunto mi faceva riferimento sabato mattina con ti leggo le cronache insomma andate ad ascoltarla ad ascoltare la sua rubrica giusto per spiegare quando c'è perfetto vai tra l'altro l'estetica che come giustamente ha subito notato nick ricorda un po' quella di charterstone quindi questa estetica un po' cartunesca con i mipolini sagomati questo verdino tenue sì 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 verrebbe a dire che rimanda molto a charterstone non fare gesti così perché è benissimo questa cosa a me proprio non mi ha preso di niente no dai l'estetica della plancia e degli edifici ci assomiglia poi non c'è assolutamente niente però da un punto di vista grafico da un punto di vista proprio di artwork grafico mi ricorda molto di più kingdom non sono d'accordo ma non sono d'accordo neanche io no dai cioè guarda questa foto quindi sembra veramente ma non mi deve convincere è un po' no ma che devo convincere è un dato oggettivo è è però è molto è comunque molto piacevole sì molto molto come sicuramente non assomiglia ad egizia no ecco questo nome non lo so è il primo gioco che ho visto no tra l'altro mipolini sagomati casettine segnalino e punti stella vuota bellissimo carinissimi sì quello proprio quando ho visto ho pensato a te ma tu lo sai che io quando ho saputo che manca la mano lo portava ho pensato adesso chiamo mi manca la mano e gli dico che mi sono perso un pezzo e ci faccio un orecchino ecco le stelline sì mamma mia eh vabbè ma non potevo mentire in maniera così spuderata capisci cioè io poi non so capace perché poi quando dico le bugie io inizio e mi si scama subito è come Sheldon è vacui è vacui felice fustelle discordanti sì mi può dire perché noi non abbiamo paura di esprimere le nostre opinioni ecco perché noi siamo siamo grazie di averci una redazione plurale con all'interno tante personalità che hanno opinioni diverse una redazione singolare siamo più in redazione ognuno di noi è una redazione e ha anche varie opinioni dentro se stesso io molto spesso non sono d'accordo con me tanto ci sono scopro ora dalla dalla galleria di BGG che sto facendo girare le monete di metallo perché c'è la versione dei poveri le monete di metallo che costano probabilmente più del gioco io ho la versione normale costano un fottio costano un fottio grazie Emiliano per avermene procurato due pacchetti due però sono bellissime e sei pure due grazie grazie aver pensato a me perché sei egoista due le tieni per te una chiusa e una la apri no due le tengo nella nella scatola che c'è il coso a casa una volute due io ho detto devo fare no perché effettivamente le monete sono molto belle e quindi abbiamo pensato vabbè tanto che ce le piaccia arrivare dall'estero prendiamone due magari possono essere utili per altri giochi ecco giusto per altri giochi perché dal regolamento il materiale sia le risorse che le monete sono in numero finito cioè dal regolamento dice se non ci sono non le puoi prendere quindi sì 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 quindi ci faccio gli orecchini mamma mia mi mandi le stelline ci fai gli orecchini tra l'altro no vabbè non me le spedire però se ci incontriamo a qualche fiera mi farebbe davvero molto piacere bene quindi ci è piaciuto Little Town molto molto un fillerino molto interessante sì 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 mi sembra di sì semplicissimo assolutamente proprio senza ombre di dubbio tra l'altro sono mi è piaciuto molto moltissimo concordo piacevole divertente easy e bello bellino anche esteticamente quindi sicuramente più che approvato in chat avete visto passare messo da ora che ho detto che è bello potete mandarmi amici manca la mano un sacchetto di monete in metallo in metallo tirando così tirate una graffio si sta per addormentare prima quindi di mandare a letto il nostro graffio però ricordiamo il referral che avete visto passare qua sotto o qui accanto dipende da dove state guardando il referral di Fustella Rotante tramite questo link potrete fare tutti gli acquisti che vorrete punto asterisco punto asterisco punto asterisco punto esclamativo io sono anche io sono arrivato punto esclamativo referral e potrete fare i vostri acquisti su dungeon dice punto it e senza alcun costo aggiuntivo per voi potrete far arrivare qualche soldino dentro Fustella Rotante per far crescere il nostro progetto come giustamente dice graffio spesso va in sconto infatti era in sconto anche nel compleanno di dungeon dice si poi è spiegabilmente in sconto nel senso che comunque i materiali sono buoni il gioco è poco indipendente dalla lingua di suo non è che costi chissà che costa 25 euro allora i materiali sono buoni il gioco è valido già di per sé a prezzo pieno non costa via di dio il gioco è non ti dico indipendente dalla lingua ma c'è davvero poca roba scritta perché solamente le carte obiettivo sono scritte e quindi le potete italianizzare qualora fosse necessario abbastanza agilmente però è sempre in sconto e io questa cosa non l'ho capita non lo so lo chiederemo direttamente a Mario la prossima volta che avremo in ospite quindi la settimana prossima perché ora forse voi non lo sapete ma una settimana sì una settimana no non è vero assolutamente no assolutamente no Graffio è veggente tra l'altro perché ha già capito dal mio continuare il mio movimento è aumentato e mi sto pisciando addosso quindi ormai come dice Alessandro conoscono la tua vescica addirittura meglio di te meglio di me non ti assicuro non so come ho fatto a resistere così tanto però adesso non ce la faccio più detto questo non fa ridere è una roba brutta basta è una roba brutta vuoi offrirci un caffè basta non fate la mela per la settimana non la prossima ma quella dopo mi preparerò il suono di una goccia un droplet cinese alla goccia cinese sì anche il pubis bene siamo arrivati quindi in conclusione di questa brevissima corta una versione ristretta insomma della live di Fustella Rosante dove vai? guarda sei in onda come vi dice il comando pipì stavo scappando funziona anche se lo leggi no sì comunque il comando pipì che parte l'audio bisognerebbe farlo ma io vado a farla se no la faccio qui scegliete voi comunque io la faccio qui come diceva il saggio allora lunedì prossimo il 21 alle 21 puntata speciale non ci le lasciate soli puntata speciale perché saremo senza Andy e non so che cosa verrà fuori personalmente credo niente ma lo dico proprio con sincerità e non ho nessuna pretesa non avevo nessuna aspettativa ma sono già deluso come diceva anche in questo caso il saggio vediamo poi appuntamento domani sera alle 21.30 con io e Shelly per un kickstarter per due sempre qui sul nostro canale no manderò ci sarà anche la nostra manista domani sera perché faremo no manderò la mia la mia gemella baffuta che gemella baffuta ricordiamo sempre più tuttana no ah no quella è la gemella pasta non era quella scusate mi sembrava mi sembrava meglio e poi appunto domani mattina domani mattina domani mattina si graffio domani mattina alle ore 11 il nostro graffio continua la sua brevissima e sintetica run di Darkest Dungeon che spero va davanti fino alla fine o finché non mi arriva il kickstarter deve andare avanti praticamente quindi credo a metà del 2023 visti i tempi bene o male inoltre mercoledì niente si salta giovedì la sera Fustella Rotante Digital con il nostro graffio che questa settimana ci porterà un classico del ci porta Hertz direttamente da gioco sul computer quello dei cuori con le carte vabbè niente la stupidaggia non lo so cosa ci porta graffio ce lo dice e poi venerdì mattina di nuovo l'altra run e poi risiamo a lunedì e così via run chiaramente di Darkest Dungeon detto questo poi ci sono gli nickstarter gli articoli ti leggo ti racconto le crone non ti leggo ti racconto ma che cosa dico vai posso dire una cosa è periodo è periodo di dichiarazione dei renditi fate la dichiarazione dei renditi mi raccomando soprattutto se siete andati in cassa integrazione perché ci avete due code fate attenzione e date il 5 per 1000 all'associazione ludica del vostro cuore come abbiamo fatto tutti noi e il 2 per 1000 il 2 per 1000 potete darlo e il 2 per 1000 a Rises ovvero l'associazione di Fustella Rotante cioè Fustella Rotante è un'emanazione di questa associazione trovate tutte le informazioni necessarie quindi il codice fiscale sul sito di Fustella Rotante giù in fondo sotto in basso nel footer quindi lo trovate in qualsiasi pagina cioè il codice fiscale vi basta inserire quello e anche lì è una una piccola azione che a noi può fare tanto perché possiamo investire di nuovo ancora in questo progetto e a voi non costa sostanzialmente nulla grazie facciamo un ride su qualcuno chi c'è online c'è Fabio c'è Keno vai 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 poi andiamo con la sigla Timino slash ride Keno ma ci fosse mai un modo per farlo diretto Keno Bisbo è scritto piccino non voglio sbagliare eccolo qua quindi andiamo con la sigla appuntamento tu vai con ride e poi vado con la sigla vado con la sigla e 5 8 7 6 5 6 6 7 ci raccomandiamo restate in gioco ciao 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 Bustella rotante!